In altre parole, buon sabato sera a tutti, cominciamo con Corrado Augas e Roberto Vecchioni, subito dopo la pubblicità. Dopo l'Abruzzo, in questo fine settimana, va al voto anche la Russia. Lì, per le opposizioni, più che il campo largo, c'è il campo santo. Intanto si sono riuniti i tre paesi affondatori dell'Europa, Francia, Germania e Polonia, che ha preso il posto dell'Italia. Questo per dire quanto è tenuto in considerazione il governo Meloni. Ma non pensate che noi si stia con le mani in mano. Mentre Macron minaccia di mandare le truppe in Ucraina, noi ci siamo portati avanti col lavoro e abbiamo già sganciato la nostra atomica. Pupo. Vado al fronte, ha detto, invadendo il palco del Cremlino, sulle note ottimistiche di su di noi nemmeno una nuvola. Guardiamolo in azione. A noi piace ricordarlo così. In altre parole, Roberto Vecchioni. Con Pupo. Ciao, Roberto. E' comodo qui. Allora, caro Roberto. Io sono amico di Pupo. Tu sei amico di tutti, Vecchioni conosce tutti. A proposito però di amici, di cantanti. Questa settimana è uscita la notizia di questa nuova strana coppia della musica italiana. De Gregorio e Checco Zalone. Un disco insieme e un concerto insieme. Due due grandi personaggi. Tanto che ne dici, che ti piace. Bellissima idea, fantastica. Anche perché non si può cantare sempre con quelli che sono ufficialmente cantanti. Poi Checco Zalone non è solo un comi. No, è un cantante intonatissimo. Un uomo di cultura, di interesse. E canta anche benissimo. Sì. E a questo proposito vorrei dire, ma tu potresti fare tu una strana coppia. Con chi la vorresti fare? Una turma e con chi? No, strana no, però. Strana nel senso. Con loro due mi piacerebbe molto, per esempio. Però con un personaggio che non si ha Zalone. Sicuramente Fiorello. Diccioni Fiorello. Allora posso dire, messaggio a Fiorello. Rosario, se ci ascolti, prima della fine della stagione, viene a trovarci. Così fate una canzone insieme qui. E se tu Fiorello... Ma poi lui ne sa. Ne conosce, è vero. Facciamo un appello a Fiorello. Invece adesso veniamo al primo invitato d'onore di questa sera. Sai che è una persona a cui io tengo particolarmente. Ti do due indizi. Primo indizio. Roberto Benigni lo ha appena definito il volto della cultura italiana. E Roberto Vecchioni, se lo conoscete, gli ha indirizzato una lettera nel suo ultimo romanzo, Tra il silenzio e il tuono. Esatto. Tu sai chi è? Ovviamente è Corrado. Ma spiegaci, spiegaci. Ma spiego perché si chiama... Il cognome bisogna spiegarlo perché è molto strano questo cognome. Corrado è di origini francesi. Antiche, però anche sarde. La parola ausa, in sardo, significa spilla. Il che è molto congeniale perché il papà di Corrado era un grande ufficiale dell'aviazione italiana. E quindi di spille e di medaglie ne avrà avute tantissime. E' il mio solone preferito. E quindi lo chiamiamo con questo nuovo accento. E' solone. Lo possiamo fare entrare? Sì. Corrado Augias. Facciamolo qua. Prego. Lui è il mio presidente, lo sapete, il presidente della nostra Repubblica delle Parole. Ecco, lo sapeva lei di questo cognome, cioè immagino di sì, di questa pronuncia, di questa derivazione. La parola ausa, quindi sarebbe Augias in realtà, non Augias. No, Cossiga mi chiamava Augias. E' a lei? Sì. Quindi ho invitato Cossiga, aiutami. Perché era sardo. In realtà, insomma, si può dire in tanti modi. Quando stavo in America mi chiamavano Mr. Hodges, che lo scrivevano H-O-D-G-E-S. E a Parigi, Augias. Augias. E' un nome che cambia. E' un nome d'utile. Un nome d'utile. Allora, come sapete, il corrado Augias tutti i lunedì ci delizia in prima serata sulla Sette. Lunedì prossimo la puntata si intitola I segreti del Vaticano. Titolo quanto mai opportuno, visto che questa settimana è uscita anche l'autobiografia del Paolo. Bravo, vedi perché lei è un ottimo giornalista. Comprimenti tra l'altro. Mi metto la spilla. Mi metto la spilla. Complimenti tra l'altro per la rubrica quotidiana, che è un gioiello di quel giornale. Tutto preparato, naturalmente. I segreti del Vaticano significa che la città del Vaticano, adesso un po' meno, ma molto di più in passato, è stato il vero centro dove in Italia e a Roma è passato il mondo. Perché spesso noi abbiamo avuto un ruolo, lei lo ricordava poc'anzi, un ruolo di secondo piano. Ultimamente abbiamo visto. Figura. Invece i pontefici sono sempre stati nel bene e nel male, sia chiaro, al centro dell'azione internazionale. Dunque, i segreti del Vaticano, quei 28 chilometri lineari di archivio, contengono un bel pezzo della storia mondiale. Quanto pagherebbe per poter passare un anno lì dentro? Mi piacerebbe molto, però c'è un buon signore, che si chiama Viganò, che sarà in trasmissione lunedì, che ha passato 40 anni. E quindi ne ha visto parecchie. 40 anni conosce. Va a memoria. Va a memoria sulla librerie. Allora, diciamo, è un prodotto di librerie, è uscito il libro, anzi esce, proprio il giorno dopo la sua trasmissione. Martedì esce l'autobiografia Life, l'autobiografia di Papa Francesco. E fra le anticipazioni che ha pubblicato proprio il Corriere, c'è una che ha colpito tutti. Cioè il Papa che dice, c'è chi in Vaticano sperava che morissi. Allora, che un Papa abbia dei nemici in Vaticano penso sia sempre successo. Molti sono stati anche ammazzati, o comunque ricordiamo il Rinascimento. Però è la prima volta che un Papa lo dice pubblicamente. In Vaticano c'è gente che mi vuole morto. L'ha colpita questa cosa? No, perché, guardi, in una visione laica, io me lo ricordo quando si è cominciato a parlare dei segreti del Vaticano in maniera fuori dall'ortodossia, cioè andando veramente a cercare di capire. E le liti, anche forti, contrasti forti, accesi all'interno della Curia, che è il governo, sono stati in materia corrente, lei lo sa benissimo. Però sperava che morissi una proposta. Per molti anni, sì, insomma, Bergoglio ha avuto una giovinezza terribile in un'Argentina atroce. Una signora che lui ha protetto in vano è stata arrestata da quei carnefici ed è tra quelli che sono stati gettati dall'aeroplano nell'oceano. Si può immaginare una fine più atroce. Tu sei legato a 2000 metri di quota, precipiti nell'acqua, non puoi fare niente. Voglio dire, la fucilazione è un'opera di bene al confronto. Cioè, a me quelli leggeri, a lui quelli pesanti, cioè quello serio e lui. Un po' come influencer, perché come l'influencer ha raccontato i fatti suoi, i fatti privati, ho avuto una fidanzata e mi innamorai di un'altra ragazza. Tocchiamo, gentili amici, un tema delicatissimo, non per la fidanzata, Per un altro aspetto, io non sono religioso, come ho detto più volte, però chiedo, la religione, ogni religione, non soltanto quella cattolica, devono vivere nell'aura, nel mistero, nella penombra, nell'eco di una musica che caratterizza una dimensione altra rispetto alla vita quotidiana nella quale siamo immersi tutti, o no? No, assolutamente no, altrimenti Cristo non avrebbe preso il corpo. Ma che cosa perde la religione quando perde il mistero? L'aspetto più mistico. Questa è la domanda, guardi, non è una domanda da poco. Io sono d'accordissimo sul fatto che esista un livello statico meraviglioso in cui, però esiste anche un rapporto con la fisicità della vita, e io sono l'unica cosa di cui sento fortemente la religione cattolica, di cui invece sono un cattolico io, è proprio questo fatto di non poter manifestare i propri affetti sentimentali anche corporalmente, cioè un servo di Dio può benissimo anche avere una compagna, sposarsi, a mio parere, non è un parere generale. Mi permetto, forse questo è ancora un altro discorso, quello che diceva Corrabagio era un'altra cosa, lui diceva ci vuole un po', quello fa parte di una regola generale se si decide che anche i breti possono sposarsi. No, qui il tema è, lui dice, il Papa è una figura comunque che veste circondata da un'aura anche un po' di misticismo, di sacralità, no? Sì, sì, beh, il Papa è adesso, prima non lo era, non lo era prima. Sì, però forse, no, la domanda che si fa Corrabagio... Le religioni sono sempre state avvolte nel mistero, e lei che è un classicista lo sa meglio di me, gli Eleusini, l'oracolo di Apollo, le Sibille... Ce n'è, ce n'è, ce n'è. Sono tutte, è sempre andata avanti così, allora se tu togli alla religione quell'involucro, il sacro, ecco qui se ci fosse la lavagna cara a vecchioni, potremmo mettere che il sacro confina con l'orrore, il rovescio del sacro è l'orrore. Se tu togli tutto questo, la religione confina con la sociologia, e allora vale la pena di credere tutte quelle cose, tutti quei dogmi? Ma il problema era molto più semplice, il problema è che, il noccio della questione, era che non c'è niente di antispirituale nel poter amare una donna. È diverso. Ma il discorso ha preso questa piega, ma possiamo continuare. Ma possiamo andare avanti, noi finiamo alle 11 e mezza. C'è ovviamente, non è necessario aderire ad una religione per avere una vita anche intensa, spirituale, ovviamente. Tu dici che se invece diventi così... Io parlo delle religioni, non parlo della spiritualità, sono due cose diverse. Sì, questo è anche vero. Ma la nostra sia spiritualità che religione, la nostra cattolica. Ma di fatto... Ci sono alcune religioni che non sono nemmeno spiritualità, se è per questo. Io, essendo ateo, ho una prof... Credo di avere, presumo di avere, una vita spirituale dove la scarico la spiritualità. La scarico ormai è diventato vecchio nella... Cultura. Cercando di nuocere il meno possibile a chi mi sta intorno, alla terra che è calpesto, al frutto dell'albero, insomma, all'affetto verso chi lo merita, eccetera. Sono vendite così bellissime, no? Ma abbiamo qui il più grande pensatore italiano. Ma infatti mi dispiace che mi tocco un po' abbassare il livello con la prossima domanda e chiederle se lei per caso ha, nella sua capace libreria, possiede il libro, l'ultimo libro, l'ultima opera dell'ingegno, l'ultima opera dell'ingegno del generale Vannacci. Lei la possiede? No. Non la possiede. Non ce l'ho. E' peggio per lei perché la notizia di oggi è che nelle librerie Feltrinelli sta scoppiando questo scandalo. Nelle librerie Feltrinelli il libro non si trova. Bisogna chiederlo alla cassa perché non viene, diciamo, esposto fra quelli, diciamo, più... Ma sarà vero? Ma così dicono i giornalisti, riconoscere i giornalisti. Io non... Ma sa, il libraio tende a vendere. Il libraio ha questo strano mestiere in cui da una parte è un missionario, tra virgolette, della cultura e dall'altro coperciante. Quindi, se c'è un libro che vende, lo venderanno. Ma infatti sarebbe una notizia. Magari, non lo so... Il suo giornale, anche lo titolo, la librerie Feltrinelli nascondono. Ma quella è un'accusa, bisogna poi verificare. Verificheremo. Ma intanto, invece, parlavamo prima del Papa che questa settimana ha parlato ancora e tanto di guerra e sta quasi creando una contrapposizione fra il Papa e alcuni leader occidentali, in particolare Macron, che questa settimana ha colpito tutti con queste parole. Guardiamolo. Il y a 2 anni, noi disions « non ne viro di chars». On l'a fatto. Il y a 2 anni, noi disions « non ne viro di missile». De la moyenne portata. On l'a fatto. On disait « non ne viro di avion». Certains sono in train di fare. Quindi, noi abbiamo tro di limiti, se si pu dire, in nostro vocabulaire. La France è una force di paia. Simplemente, oggi, per avere la paia in Ukraine, non bisogna essere faibili. e quindi, il nous faut lucidemente guardare la situazione e il nous faut, avec détermination, volontà, courage, dire che nous sommes prêts a mettere les moyens per atteindre notre objectif che è che la Russie ne gagne pas. Allora, Aujas, Macron dà voce a un pensiero che è molto diffuso. Lo diceva già mio papà, da giovane, partigiano, mi raccontava queste cose. Il diceva «contro i dittatori, contro i tiranni, mostrare la faccia forte è meglio che essere troppo appisment». Cioè, essere troppo disponibili viene percepito dal dittatore come un segno di debolezza. Se invece batti il pugno sul tavolo e ti limiti a fare quello, per carità di Dio, è che andiamo a combattere lì, però comunque il dittatore comincia a dire «allora, ti rispetta di più». Si dà una regola. E così, è vero. E questo continuo parallelismo che tendiamo a fare tra Putin e i dittatori del Novecento è giusto? È giustificato? Oppure no? Guardi, qui ovviamente stiamo discutendo di problemi che sorpassano la statura. No, ma problemi di cui si è occupato anche benissimo anche nel suo programma. Diciamo così. Io ho un incubo che è monaco. In che senso? Nel 1938, come sappiamo tutti, 1938, si pensò che dando i sudeti in pasto a Hitler lo avremmo, lo avrebbero saziato, placato. E gli ridettero. E lui si mangiò e quei tedescofoni. E poi però è andato ben oltre. Allora la domanda che ci dobbiamo fare. Putin, da questo punto di vista, è come cioè se gli diamo un bel pezzo di Ucraina, il Donbass, come si chiama, perché basta. Basta morti, basta distruzioni. Si fermerà lì. Oppure poi vorrà rimettere insieme tutta la versione Sovietica. Aveva preso la Crimea nel 2004, poi adesso vuole il pezzo del Donbass. Forse tra altri due anni vorrà tutta l'Ucraina, poi vorrà quella striscia di terra che ha quel nome strano dopo la Mordavia. Come in termini, ecco lo sapevo, non me lo ricordo. Mi date suggerimenti, come si chiama la striscia che col... Che cosa? Aiuti, tutti e tre. È una striscia, è la striscia. Vabbè, ma non ci fermiamo su queste qui squiglie. Se qualcuno ci dà una mano a casa staranno già tutti. Mi dispiace, perché è un nome curioso ma carino. Però, la domanda qualcuno le potrebbe rispondere. Hitler dietro aveva la potenza militare della Germania di quegli anni, Putin ha una Russia che sta facendo fatica quasi a vincere una guerra contro un paese molto più piccolo. Cioè, non ha le armi, nei soldi, negli uomini per fare di più. Potrebbero rispondere. Non lo so. Lei ha questa impressione? No, no, la mia è una domanda. Io non ho questa impressione. Ho avuto, ho seguito abbastanza per quanto... E la tesi, diciamo, di tanti pacifisti. Ha avuto un momento di debolezza in cui sembrava che gli ucraini potessero riprendere la mano dell'iniziativa bellica. invece poi dopo si è visto che la controffensiva a Ucraina è fallita e che quelli ormai quindi potrebbero secondo lei... Intanto oggi si è fatta... Anzi, ho parlato con l'uso Caracciolo che se ne intende molto. E mi ha detto che se continua così l'Ucraina in capo a pochi mesi è perduta. Tutta. Quella è la cosa. Quindi noi che ci mettiamo a discutere qua... Tu hai paura, Roberto? Io ho una grande paura. È paura che possa diciamo precipitare tutto. Ho paura. Poi è un folle Putin, eh? Ho paura. Lui non vuole altro. Assolutamente. Non può tornare indietro. Assolutamente. Se in due anni non sei riusciti con tutta la diplomazia possibile e immaginabile del mondo ci sono messi tutti. Nemmeno a scalfirlo di un millimetro. Questo va avanti. Assolutamente. Qui bisogna... tutti quanti noi dobbiamo definire questa parola pace perché a volte non è il significato dell'altra parola pacifismo. Cioè non concilia. Pacifismo e pace possono avere dei punti di diversità. La pace purtroppo si ottiene anche a volte scagliandosi contro un avversario che ti perseguita. A volte? Scagliarsi contro un avversario che ti perseguita. Cioè il pacifista assoluto dice la pace significa senza armi. Il pacifista assoluto si mette lì prende due schiaffi li prende anche dall'altra parte creppa e basta per un ideale per un'idea però qui c'è il mondo c'è l'Europa che dovrebbe far riflettere questo fatto. Cioè noi siamo vicinissimi alla Russia. Siamo vicinissimi. C'è un cuscino che è poca roba. Noi stiamo rimuovendo da due anni questo fatto che questa guerra è una casa nostra anche se a noi sembra lontana. Oggi in Russia tra l'altro si è votato e voglio mostrare questa immagine di un gruppo di elettori che va al seggio con un mezzo di trasporto particolare. Verrebbe da dire che alla democrazia in Russia può credere giusto Babbo Natale. In Abruzzo, no? Sì, in Abruzzo. È il campo largo in Abruzzo che si sta muovendo. Comunque insomma domani aspettiamo che a mezzogiorno ci sarà questo momento molto atteso con gli oppositori. Questo non succede mai. Non ci credo. No, non è vero. scusatemi. No. Lo sguardo del Presidente... Che figura da niente. Secondo me è il Fiorello che sta chiamando per dirti di fare insieme il concerto. Ma cosa fai? Vai via? Ma così? si usa in trasmissione. Ha consegnato il telefono ed è andato a nascondersi per la vergogna. Gesto nobilissimo. Gesto nobilissimo. C'è nel risultato. Volevo parlarvi adesso di una giovane. Una vicenda di questa settimana. Una signora è stata fermata in piena notte mentre guidava senza patente e con l'assicurazione scaduta dicendo ma stavo raggiungendo degli amici. Il piccolo particolare è che ha 103 anni. Ora, parlando qui con due giovinetti volevo sapere da voi com'è il vostro rapporto e fino a che età è giusto guidare? C'è una speranza. Ne ha più di una lei. Però, no perché non lo sapete ma quando mi capita di sentire Corrado Augias e diceva berrei volentieri però sto partendo per Londra poi ho un convegno a Parigi poi devo andare a vedere un'opera lirica a Milano poi però ho una vita da ventenne no magari ventenne però dicevo lei cosa pensa? Ultimi fuochi. Ma sì, ultimi fuochi. Secondo me sarebbe giusto a una certa età smettere di fare alcune cose fra cui per esempio guidare oppure no? Veda? No, rispondo rifacendomi alla cosa di prima quando lei abbiamo parlato con lei e con Roberto della spiritualità della religione o l'una o l'altra o nessuna delle due l'importante è stare in pace non avere né crediti né troppi crediti né troppi debiti con la vita ecco allora uno può dormire con serenità e quindi anche guidare anche guidare con la patente però l'unica cosa è quella perché una signora di centro attore può guidare benissimo non è questione di età è questione di bravura io per esempio preferisco andare in macchina a 300 all'ora con la de Stappen che ha 60 l'ora con mia moglie questo salutiamo Daria ciao poi devi tornare a casa io domani te lo voglio ricordare allora l'ultima puntata torno di vera io mi ho detto lunedì prossimo è la penultima perché l'ultima è il 25 marzo e quel numero 25 in realtà ci fa pensare ad aprile quindi le chiedo di cosa parlerà l'ultima puntata l'ultima puntata è vero ci porterà a dove parliamo della liberazione di Roma e delle fossoerdeatine 25 marzo 24 marzo cioè quell'anno che è un anno di 44 per Roma perché il nord d'Italia 25 più del 45 era tutta un'altra storia per Roma era stato un anno di incubo nella prima parte poi dal 4 giugno di liberazione e si è ricominciato a mangiare sottolineo questa cosa perché negli ultimi mesi dell'occupazione non si mangiava quasi più e attenzione tutti i vesti avevano chiuso diciamo tutti i macri io mi ricordo mio padre che ballava dentro le giacche ecco però fu anche un anno tremendo dove si consumarono alcune vendette dove si riesumarono si scoprì qual era stato l'orrore delle fosse ardiatine e dove si stabilirono dei nessi con quel fascismo che aveva provocato le sciagure che aveva provocato dei nessi con quella che sarebbe poi diventata a partire dal 46 la Repubblica Italiana le cui conseguenze vorrei dire che ancora oggi ancora oggi sentiamo la volevi portare ancora una cosa cioè volevo parlavamo adesso della seconda guerra mondiale e quindi della persecuzione anche degli ebrei questa settimana c'è stata questa polemica l'avrà seguita forse anche lei cioè due personaggi dello spettacolo Massimo Ceccherini una famosissima attrice Sabrina Ferilli riguardo alla vittoria di un film un film straniero La zona di interesse hanno lasciato intendere Ceccherini in maniera proprio evidente la Ferilli in un modo più allusivo e se vince so perché che la vittoria non fosse dovuta alla qualità del film ma fosse dovuta al fatto che parlava degli ebrei quindi scaterando una sorta di ricatto morale diciamo così nei confronti della giuria un po' curioso in un paese dove Roberto Benigni vinse l'Oscar e all'epoca gli sono fatte le stesse accuse ecco che effetto le fa ancora sentire questi argomenti quella frase può infelice comunque può essere interpretata in due modi uno benevolo in cui siccome si dice che Hollywood l'hanno fatta agli ebrei che in parte è vero si riferisse a quello che negli ebrei nel cinema americano c'è una presenza ebraica rilevante però i giurati sono 6.000 dell'Oscar quelli che votano nell'Oscar poi c'è l'interpretazione malevola l'interpretazione malevola è il cedimento ad un luogo comune che invece quello sicuramente non è vero e anzi approfitto di questa sua domanda per sottolineare che ieri all'università di Napoli Maurizio Molinari è stato impedito in quanto ebreo di tenere una conferenza sul Mediterraneo attenzione Molinari sul Mediterraneo ha scritto due libri molto importanti in cui racconta e analizza quali sono qual è il peso dei vari interessi intorno a questo lago che una volta veniva chiamato come ricorda Mare Nostrum e che qual è la posta nostra di questa penisola in gioco nel Mediterraneo impedirgli di parlare in un'università è stato un gesto scellerato Roberto io che difendo sempre i giovani penso che sia stata una cosa veramente sballata sballata puoi andare a criticare ascolti e repliche contesti al limite ma non far parlare delle cose da parte dei giovani in questa settimana che sinceramente non riesco a capire cioè questa presa di posizione così efferata veramente fuori luogo dei ragazzi che poi erano pochi e non erano tantissimi a Federico II ma soprattutto ne parleremo penso immagino questa cosa del diccio scientifico di Partinico io conosco i ragazzi siciliani non sono così ah beh no sì ho scritto stamattina la storia del liceo scientifico di Partinico dove la maggioranza assoluta degli studenti si è dichiarata contraria al progetto di intitolare la scuola a Peppino Impastato con questa motivazione Peppino Impastato sì è una vittima di mafia certo ma è divisivo perché era un militante politico cioè perché aveva esibiva la propria ideologia politica era un militante comunista 73% di ragazzi che è un principio curioso perché ora non dovresti dedicare una scuola a Borsellino perché Borsellino era notoriamente vicino alle posizioni del movimento sociale ma cosa vuol dire queste sono delle vittime della mafia cioè se l'appartenenza politica diventa qualcosa di divisivo una volta era un valore avere una passione adesso diventa una cosa che ci siamo diventati così politicamente corretti che qualunque presa di posizione ci dà fastidio ci urta una sensibilità guardi la reazione diciamo morale verrebbe spontanea cerco di andare un piccolo passo più in là tutto questo come certe inammissibili incertezze su scelte politiche elementari dipendono dal fatto che mi dispiace dirlo è anche un po' pericoloso dal punto di vista della correttezza politica dipende dal fatto che la culturazione media in questo paese è troppo bassa è troppo bassa ma posso dire c'era sul suo giornale Corriere della Sera un articolo di Sabino Cassese due o tre giorni fa lucidissimo da questo punto una delle ragioni per le quali una democrazia sta in piedi e resiste alle scosse è il livello di acculturazione dei suoi cittadini quando quello è basso posso dire un'ultima cosa quei ragazzi Roberto vorrei solo dire questo Peppino Impastato era figlio di un mafioso si ribellò al padre che lo cacciò di casa ma se non è un eroe degli adolescenti uno così ma chi può essere un eroe non lo so infatti non capisco non riesco a capire non mi quadra questa situazione o viene dall'altro o viene da qualcun altro o viene da qualche proibizione non lo so perché i ragazzi di per sé non sono così intitoliamo la Rosario Livatino cioè un giudice anche lui vittima ma che non è divisivo perché invece Impastato avendo un'idea politica forte divide ma io penso che chi combatte la mafia dovrebbe unisce a prescindere credo vabbè apriamo una rubrica molto importante del nostro programma che abbiamo intitolato dov'è Alessandra Sardoni questa sera c'è anche Corrado Augas che ci aiuta nelle ricerche l'avevamo prima lasciata a Toronto mi ha detto Massimo torno subito prendo il caffè torno ci vediamo il sabato dopo era a Reykjavik ora vorrei sapere mi ha detto sabato prossimo viaggia più di Augas vi sta io no aspetti ancora un attimo vi sta licenziando no non la licenzo ancora lei non la licenzerò mai lei ha un contratto guardi a vita anzi ha più vite ma vorrei prima vedere se Alessandra Sardoni è collegata e da dove ci parla Alessandra da dove sei torna a casa allora sono collegata buonasera intanto ciao Massimo ciao ma dove sei ma sono vedi questa strana questo cielo un po' più blu che si vede un po' nella finestra sono ancora a Reykjavik però non credere che io sia stata sempre a Reykjavik sono riuscita a toccare il suolo groenlandese e ci sono anche non so se possiamo mandare delle immagini che comunque avevo girato per darmi prova che sono stata effettivamente in Groenlandia eccole qui queste sono dall'elicottero ma è stato un grande problema arrivare per il maltempo e oggi c'è stato il batticuore finale perché eravamo sull'elicottero per tornare a Reykjavik invece l'elicottero ha girato è tornato indietro e sembrava che ci fosse una tempesta e che saremmo restati tutti bloccati invece poi per fortuna non è così sono a Reykjavik domani sarò in redazione e insomma poi e lei ha detto con un tono mesto senti ma questa settimana ho letto che anche la Ursula von der Leyen è andata in Groenlandia allora vogliamo capire sei tu che segui lei o è lei che segue te guarda mi piacerebbe molto dire che mi ha copiato Ursula von der Leyen ma ovviamente non è così e lei è andata a cercare delle cose molto importanti un accordo per investimenti per le terre rare quelle che servono per la transizione ecologica le macchine ibride per la difesa e quindi è andata ad aprire un ufficio dell'Unione Europea a Nuuk tu no invece io ero dall'altra parte per la verità ero nel lato west e in una città piccola 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 in una di 200 abitanti e una di 2000 posso spiegare al presidente Corrado Auger le ragioni per cui ti trovi lei ha raggiunto il marito Oscar che sta facendo una ricerca sugli Inuit ho detto bene? sì più che altro è un musicista credo anche la ricerca musicale è un musicista e quindi è andato a raccogliere suoni e poi stanno costruendo con altre persone una produzione del teatro dei teatri di Ravenna del festival di Ravenna e di Reggio Emilia e di Bolzano insomma un'opera un dopudrama musicale che andrà in scena a queste stalle la parola musica so che Auger è molto sensibile e molto esperto senti Alessandra faccio vedere sia a te sia a Corrado Auger che a Roberto qualcosa che ti sei persa in queste settimane in cui manchi da Montecitorio guarda queste immagini di questo deputato leghista guardiamola la cosiddetta operazione levante si tratta del dispositivo nazionale allestito per fronteggiare le conseguenze del conflitto tra Isleele ed Ammas scoppiato il 7 ottobre scorso e ne fa parte anche il carcia torpediniere Duilio che nei giorni scorsi ha abbattuto un drone lanciato dagli Uiti e svolgerà il ruolo di nave emiraglia significa per noi porre fine ai danni economici che stiamo subendo a causa dell'iniziativa degli Uiti 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 e Ammas come la chiamavano? Ammas Ammas io vi dico lo capite che c'è un problema di legge elettorale in questo paese perché ci fanno votare con tutto il rispetto per il signor Anastasio Carrà però ci fanno votare chi vogliono loro credo che si chiami Carr o Carr credo abbia l'accento non lo so ah facciamo anche con lui col gioco Witi Witi come c'è un problema lei diceva prima di cultura non solo per i giovani no è che spesso gli uomini politici anche le donne hanno un problema con la pronuncia di parole straniere quindi la vorrei limitare la vorrei limitare lì per carità di patria dovrebbero formarsi su queste cose se sono se parlano a nomi di tutti gli italiani devono sapere chi sono gli uti devono sapere che il popolo sono dello Yemen devono sapere che si ritengono si ritengono dei protettori delle cose di Dio in terra gli uti veramente protettori cioè partigiani di Dio si chiamano chi? ah scusa pensavo non pensavo il leghista che era un po' partigiani di Dio beh tutte queste cose dovrebbe saperle un rappresentante nostro 47% degli italiani dovrebbe sapere ma non le sa Alessandra anche da lontano avrai seguito le vicende politiche della settimana dato che ti voglio bene non ti chiederò del campo largo perché so che è un argomento grazie ecco è una cosa su cui nessuno di noi non so se Corrado sei in grado di illuminarci su questo campo largo ma noi siamo e qui invece ti chiederò Salvini è in difficoltà anche dentro il suo partito sempre di più potrebbe essere lui stavolta il Matteo che fa cadere il governo perché sa che in Italia abbiamo questa tendenza che c'è sempre un Matteo che fa cadere i governi potrebbe essere Salvini stavolta? è un domandone perché Salvini non so se proprio perché ha tutti questi problemi interni dovrebbe avere la forza l'appoggio e tutto il suo gruppo parlamentare che lo segue in un'azione di questo tipo e non so se è in questa condizione in più il Parlamento ha sempre lo stesso tipo di forze e quindi Giorgia Menoni può sempre giocare la carta di minacciare o di andare alle elezioni secondo me con minore forza di prima perché anche ritornare al voto avrebbe degli effetti e presenterebbe dei rischi anche per lei però insomma Salvini mi sembra ripeto proprio perché c'è un problema interno alla Lega mi sembra che non lo seguirebbero probabilmente su un altro papete perché si tratterebbe di questo quindi detto questo sicuramente la speranza di un dinamismo come dire parlamentare anche da parte dell'opposizione mi sembra concentrata su Salvini a dinamismo parlamentare bello c'è la cacciara la dinamismo parlamentare bellissima ecco sento Presidente una cosa che mi ha colpito mi colpisce ogni turno elettorale è che i partiti di destra e gli elettori di destra litigano e cambiano spesso opinione ma sempre all'interno del centro-destra cioè si scambiano i voti i vari partiti ma la somma rimane sempre da quella parte perché il centro-sinistra non riesce ad attirare un solo elettore di quel blocco granitico litigioso ma granitico al tempo stesso perché al centro-sinistra segnatamente al Partito Democratico che ha crollato il soffitto che era quello delle uso un parolone delle idealità oppure abbassando il tono degli obiettivi politici a lungo termine delle grandi riforme delle grandi speranze che ha avuto per tanti anni paradosso quando non è stato al governo e che oggi che potrebbe oggi no ma ieri che avrebbe potuto applicarle non aveva più gli strumenti per farlo la sinistra vive questa tragedia questo dramma ecco questo dramma storico che c'ha un orizzonte aveva un orizzonte e oggi non ce l'ha più la destra è più facile perché il suo orizzonte è pragmatico il potere no la sinistra aveva il potere certo ma anche un mondo di valori ideali che oggi non c'è più ma questi valori rimangono tutti è vero hai detto quello che volevo dire io e non so se sia un complimento quello che volevo dire vorrei aggiungere una piccola postilla che drammaticamente il mondo ha paura e va a chiudersi in questa morsa destorsa che lo illude di difenderlo questo è un altro elemento importantissimo la paura si è riusa che la destra difenda mi permetto di dire che abbiamo cercato di capire perché le democrazie molte democrazie forse speriamo non la nostra ma insomma barcollano con il professor e abbiamo buttato giù una serie di elementi c'era quello e c'era quello che ho detto io e ce ne erano molti altri e noi a proposito del teore di babene lasciamo che Corrado Augius vada spiritualmente a prepararsi visto che lo salutiamo pure di sera mi raccomando mentre Corrado Augius aspetta ancora un secondo fino a che non mando la pubblicità Alessandra sabato prossimo torni ci sono ci sono se mi volete metti la testa a posto ecco ti aspettiamo qui ciao a sabato prossimo tu invece Roberto non ti muovono tra un attimo ci saluta Corrado Augius ma ci raggiungono Lodo Guenzi Agnese Pini è una star del web camiont tra un attimo dopo la pubblicità grazie Corrado Augius grazie in altre parole sono le 9.27 buonasera ci hanno raggiunti due amici delle parole Lodo Guenzi per la prima volta però quest'anno o è già la sequestrura la prima quest'anno e Agnese Pini che insomma è dedicata siamo stra felici che sia tornata a trovarci lo sapete direttrice di Quotidiano Nazionale Giorno Carlino e Nazione e poi per la prima volta invece le parole una superstar del web sono emozionato posso darti del tu sì certo certo grazie Camio ma ti chiederò Camilla questo permesso e Robi Oc lo conoscete già Roberto Bicoli allora partiamo da una storia di sanità io ne ho parlato anche sul giornale perché è una storia che ha colpito tanto cosa succede? è successa una cosa incredibile cioè in un pronto soccorso di affermo un medico trovato un medico in pensione che adesso va lì a dare un aiuto con una cooperativa Francesco Bernetti evangelista ci tengo a dire il suo nome visita una ragazza poi la dimette ma mentre torna a casa nel cuore della notte ci ripensa torna sul suo lavoro e dice ma ho fatto bene a dimetterla perché comunque la febbre era alta aveva un'insensibilità agli altri e fa una cosa incredibile torna indietro e va a suonare la campanella di questa famiglia che la cosa che mi ha più colpito la mamma il papà di questa ragazza che si chiama Giulia una ragazzina vedendosi entrare in casa un medico sono rimasti stupiti perché chi è più abituato noi vediamo i rider che ci portano le cose a casa ma un medico con la borsa soffietto come quelli della mia infanzia penso anche di quella di Roberto certo una volta c'era un mondo magico in cui erano i medici a venire a casa tua e questa storia ha colpito al di là di tutto il resto per questi due particolari l'amore per il lavoro fatto bene lo scrupolo di essere sicuro che tutto vada bene è il venire a casa ed è servito perché la ragazza è stata a questo punto riportata in ospedale e l'hanno salvata da un rischio molto pericoloso perché rischiava davvero di avere dei danni molto gravi perché aveva un'infiammazione al midollo tutto questo insomma Roberto intanto per introdurre prima un capitolo di nostalgia anche per alcuni dei nostri spettatori tu te lo ricordi il medico si chiama la professora Cerbi il mio salassa penso che aveva anche un nome diciamo che già ricordava il medico tra l'altro io e mio fratello chissà perché avevamo sempre un po' di influenza poi abbiamo fatto tutte gallatina varicella morbillo tutti tra l'altro io stavo bene a letto tutto pulato io ho provato a leggere col morbillo bellissimo anch'io leggevo tantissimo e il professor mi veniva davvero bianco tutto straordinario calmissimo tranquillo e mi metteva tranquillo circondato poi da un'aura sacrale cioè io mi ricordo la mamma che riceveva il medico le faccio il caffè le do il pasticcino e questa cosa si è persa per tante ragioni una la principale abbiamo qui lodo che sapete ci giocheremo spesso su questa cosa ahimè insomma lodo lo stato sociale purtroppo è soltanto un meraviglioso gruppo musicale ma non ce l'abbiamo più e uno degli effetti dello stato sociale che non c'è più è che abbiamo meno soldi per la sanità oggi è più normale che ti arrivi a casa un rider con la pizza che un medico a qualsiasi ora della notte anche le più impensabili solo per solleticare il nostro prurito di consumatori le nostre esigenze di persone di cittadini sono meno ascoltate il mio tra l'altro si chiamava dottor Lippi mi piace ricordarlo perché io ho fatto in tempo io sono meno giovane di quel che sembra e ho fatto in tempo sì no è chiaro che noi siamo di fronte ad un paradigma sempre più ribaltato ogni giorno no cioè non non è più il sistema economico che serve a farci vivere meglio siamo noi che viviamo in funzione del mantenimento del sistema economico il sistema economico Camilla in casa tua sono tutti medici medici i tuoi genitori medico il tuo fratello ecco questa realtà che stiamo raccontando quindi tu la la vedi da vicino sì sì con le borse a soffietto io me le ricordo molto bene perché tra l'altro mio fratello l'ho appena laureato gli è stata regalata la borsa perché è tradizione però sono molto contenta anche di finalmente di sentire una notizia di un caso di buona sanità perché ce ne sono tanti di mala ma io ho due genitori che sono stati veramente negli anni votati al loro lavoro e la domenica mio padre va a fare il famoso giro dei pazienti che opera il sabato e anche se la domenica dovrebbe stare a casa perché il giorno di riposo va sempre a trovarli in ospedale è lì il salto la differenza Agnese ma dopo il con se ricordo bene non c'era stato proprio giurato vi teniamo chiusi in casa ma vi giuriamo che poi quando torneremo tutti liberi la sanità era rifinanziata i medici eroi le infermiere eroina erano tutti eroi e dopo? è durato 24 ore dopo la fine del covid se il covid poteva lasciarci un insegnamento buono Massimo proprio quello sullo straordinario fondamentale valore della sanità pubblica e non lo abbiamo imparato tutto quello che stiamo raccontando questa sera anche a partire dalla storia meravigliosa di Fermo ha dei numeri precisi che giustificano il fatto hanno chiuso in 10 anni in questo paese da 2011 al 2021 125 ospedali mancano 30.000 medici ospedalieri perché non si vuole più fare il medico ospedaliero perché si guadagna troppo poco e si lavora in condizioni non più adeguate massacranti mancano 70.000 infermieri ecco sono problemi che ci portiamo dietro allo lontano perché arrivare a dei numeri così significa che qui si è lasciata proprio a briglia sciolta lo scadimento di un fiorocchiero questo è un medico a 1.000 o 1.500 persone di cui si deve occupare come capita adesso non può certo fare il giro degli appartamenti altro che rider cioè diventa un lavoro in cui viene a mancare il dato umano che è uno dei temi principali anche per il paziente per sentirsi sicuro ma soprattutto ti racconta la trascuratezza un po' vergognosa con cui molti governi hanno lasciato andare la questione solitaria che era in fondo una delle cose di cui andavamo orgogliosi cioè l'Europa si distingueva da tutti gli altri paesi dell'Occidente dall'America in particolare perché tu sapevi che se stavi male c'era qualcuno che si occupava di te ma è con umanità questa sera ci colleghiamo con un campione di umanità un grande medico e un grandissimo scrittore che io personalmente come tanti amo moltissimo in collegamento da Bellano provincia di Lecco Andrea Vitani il dottore Andrea Vitani buonasera buonasera Andrea buonasera in effetti in questo caso è un giallo che ha già il colpevole diciamo l'abbiamo già più o meno individuato però volevamo chiederti ecco anche tu sei in pensione ma con ti come il dottore di fermo ma continui a visitare i pazienti a casa? sì beh assolutamente l'ho fatto anche questa mattina in un paio di occasioni anzi uno mi è toccato anche ricoverarlo in ospedale per fortuna ho avuto recentemente notizie del suo ritorno in buona salute è un'abitudine che che continua ad avere perché fa parte di una educazione al lavoro che ho avuto sin dall'inizio cioè dal momento in cui ho cominciato a fare questo mestiere nei lontani anni 80 ormai perché sembrano veramente lontanissimi ecco senti Andrea mi ha scritto ieri una giovane dottoressa che si chiama si firma Sara e vorrei dirti in sintesi il contenuto della sua lettera che commentava la vicenda del medico di fermo ma perché noi medici che amiamo il nostro lavoro dovremmo sbatterci per andare a casa di gente che poi magari ci insulta ecco quello che ti chiedo è è proprio saltato quel rapporto di umanità cioè da un lato hai perfino i medici che hanno paura a confrontarsi con i pazienti dall'altro lato hai i pazienti che ovviamente invece sono arrabbiati perché il medico è sempre più difficile perché non viene più a casa per tutte queste ragioni cioè è saltato questo legame speciale che c'era fra medico e paziente medico di famiglia ma tutto sommato mi sembra di poter osservare che adesso non credo che tutti i pazienti siano lì ad aspettare il momento per insultare il loro medico speriamo magari lo insultano perché non risponde a una chiamata domiciliare forse poi ci sono anche altri motivi che hanno un po' annaquato il rapporto medico paziente ci sono forse troppi intermediari nel rapporto tra il medico i pazienti in termini intendo che ne so internet google certe informazioni distorte certe chiacchiere anche che si fanno in piazza soprattutto nei posti piccoli come quello in cui io vivo quindi c'è un allontanamento che determina forse una scarsa fiducia nelle capacità professionali del medico ma non credo che i medici abbiano perduto la capacità di essere tali forse si trovano un po' in difficoltà proprio in virtù di queste ragioni senti Andrea ma è vero che tu hai cambiato bar quello dove abitualmente facevi colazione della mattina perché c'erano i pazienti che ti tendevano a guati dai tavolini per chiederti di fare le ricette e sì allora è uno dei tanti siparietti dei tanti siparietti che possono capitare qui in provincia io ho cambiato bar perché a un certo punto mi sembrava assai poco professionale avere 3-4 persone che abitualmente sapendo che avevo il caffè alle 8 del mattino in quel bar mi aspettavano fuori per chiedere la ricetta onde evitare la fila in ambulatorio e tengo a sottolineare che questa cosa poi l'ho giustificata con il gestore del bar cioè gli ho spiegato che non ho cambiato bar perché mi è diventato antipatico l'ho cambiato per una ragione diciamo di opportunità abbastanza chiara tant'è che dopo un po' ci sono ritornato però questo fa parte anche del come dire della vita del medico del medico di famiglia soprattutto in una piccola comunità come questa accadono questi siparietti che rendono lieve un lavoro che a volte invece è estremamente impegnativo però ecco non c'è dubbio che poi il tema sempre è che il paziente quando sta male mette sede davanti a tutto il resto non si mette al primo posto quindi non gli importa che ci siano altri 100 che nelle sue condizioni si mette sempre davanti ma c'è qualche aneddoto dei mille che avrai della tua vita da medico che ci puoi raccontare del tuo rapporto con i pazienti ma guarda guarda io in relazione alle visite domiciliari ricordo una signora che mi ha fregato un paio di volte che mi ha chiamato diciamo a domicilio e poi non si è fatta trovare e ha giustificato la sua assenza con il fatto che era giovedì doveva andare a prendere il pollo arrosto al mercato perché temeva di perdere quindi non stava così male di prendere il pollastro che le sarebbe servito per no direi no a questo punto no tant'è che io le chiesi poi se il pollastro era di suo gradimento e l'abbiamo chiusa lì perché anche su queste cose insomma bisogna fare bisogna farci un conto non è che bisogna starci proprio ad arrabbiare più di tanto però diciamo tu in questi decenni hai visto un deteriorarsi anche in provincia di questo rapporto e lo ritieni causato dalle ragioni che diceva prima Agnese anche Lodo cioè dal fatto che non c'è più lo stato sociale forte di prima e quindi finanziamenti e la sanità oppure proprio è un deterioramento dei rapporti umani ma io tenderei adesso non conosco bene le realtà metropolitane anzi non le conosco per niente conosco credo di conoscere abbastanza bene la mia realtà posso dire che all'interno di queste piccole comunità questo rapporto esiste esiste ancora perché è un rapporto che si basa sulla conoscenza sulla confidenza sul fatto che tu il medico lo trovi in piazza lo trovi al bar appunto a bere il caffè lo trovi all'uscita della messa se è uno praticante che va a messa quindi è difficile che questo tipo di rapporto si logori al punto tale da rompersi a un certo punto sicuramente l'ambiente l'ambiente urbano l'ambiente metropolitano crea molte più difficoltà affinché un rapporto si fatto si consolidi al punto tale da non potersi poi rompere quindi mi rendo conto diciamo di queste difficoltà che hanno altri mi rendo conto dei vantaggi invece che possiamo avere noi che agiamo come io ho fatto per 25 anni qui in provincia diciamo che questa conversazione con Andrea Vitari ci mette voglia di andare a vivere tutti in provincia è vero i problemi diminuiscono la differenza che c'è quando sono in la ma è la strada nella città e quando sono sulla grigarda che ho una casetta i medici vengono subito arrivano tutti io non posso andare devo dire alla Vitali in cui ammiro la penna in cui tra l'altro stanno vedendo la copertina del suo ultimo libro sua eccellenza perde un pezzo benvenuti che mi dice che non può più andare al bar di quando entro in un bar mi chiedono sempre i ciccanti se qualcosa in certi bar non posso più andare è un po' uguale la sua situazione quindi il consiglio per i medici come voi è di andare sempre in giro con la mascherina questo aiuta perché almeno copri non fai riconoscere 180 gradi è cambiato la regione Lodov perfetta la definizione e il rapporto certificato lui economia e vita si sono invertiti i 180 gradi il consumatore è diventato colui che serve per far funzionare la macchina e non il contrario temi che nelle città sentiamo di più Andrea ma insomma ti invidiamo tanto un abbraccio grande ad Andrea Vitagli grazie per essere stato con noi ricordiamo la sua eccellenza perde un tempo insomma ricordiamo tutti gli altri bellissimi ridi grazie da Andrea restiamo in tema di sanità caregiver Camilla tu sai la parola caregiver possiamo tradurla male datore di cura insomma e definisce le oltre 7 milioni di persone in maggioranza in stragrande maggioranza donne che ogni giorno dedicano tempo amore ed energie per prendersi cura dei familiari malati e non autosufficienti cioè per sostituirsi appunto allo stato sociale con inevitabili contraccolpi emotivi e anche economici perché poi il tempo che dedichi ai parenti di cui ti devi occupare lo devi togliere all'altra attività ma come vive come si sente un caregiver che è una condizione così diffusa in questo paese a raccontarlo alla nostra Laura Buonasera è stato Antonella Broccoli che assiste una madre che è disabile al 100% guardiamo la sua storia La vita si ribalta sì è proprio così io sono passata da figlia ad essere mamma di mia madre per quanto riguarda proprio l'assistenza sì l'assistenza di tutti i giorni ciao mamma ciao come va? tutto bene sono una caregiver per mia mamma che da 5 anni è invalida al 100% allora che ti serve che vado a fare la spesa? degli affettati la vedo che piano piano sta perdendo un po' la voglia di andare avanti di vivere e quindi devo esserci anche per quello e questo è quello che mi fa più male alcune volte mi devo far forza per non non deprimermi anch'io come è andata? quando sono Sanna mi ha aiutato a fare la doccia mi ha pulito casa mia madre ha una depressione abbastanza importante ha mangiato? ha mangiato si quando papà si è ammalato di Alzheimer ha vissuto purtroppo la quotidianità della malattia di mio padre ah beh ti ha fatto anche la verdura da novembre quando papà è andato via questa diciamo depressione si è ancora più aggravata allora mammi ho preso pure le bollette ok grazie senti ascoltami bene ma mi raccomando mangia per favore e non mi di bugie no ciao mammi ciao c'è una signora che viene sta con lei le fa la doccia le prepara da mangiare le pulisce casa c'è lei quando papà a pranza mia mamma prende una pensione di 700 euro con l'accompagno paghiamo questa operatrice domestica chiamiamola così perché badante non si può chiamare tre giorni a settimana part time perché che full time non potremmo permettercela ok rosa noi ci vediamo dopo domani va bene ciao grazie ciao negli altri tre giorni invece la porto a fare un day hospital di fisioterapia nella struttura dove lavoro fa tre ore di fisioterapia perché il day hospital comporta tre ore lei mangia in clinica perché mi deve aspettare altre tre ore perché io finisca il mio turno per riportarla a casa mi deve aspettare sì tre ore seduta da sola sì noi abbiamo anche attivato un CAD un centro assistenza domiciliare con la sanità pubblica ma per mancanza di personale mi hanno risposto che non era possibile averlo e quindi qui noi non abbiamo visto mai nessuno eccoci mamma dai restiamoci e ce ne andiamo in questo momento in questo momento è come se io mi sentissi responsabile in tutto e per tutto è come se ci avessi una altra volta una figlia piccola della quale sei responsabile tu e solamente tu ti cambio le scarpe perché con quelle non cammini bene quindi evitiamo e devi stare attenta devi salvaguardarla devi devi cercare di fare tutto ciò che la fa stare bene adesso possiamo andare dimmi se cammini meglio che da una parte è una cosa che mi fa bene nel senso perché amo mia madre dall'altra mi crea uno stato di sì come se fossi in una gabbia bevo devo fare devo andare devo portare e tanti devo un pochino mi cominciano a pesare ma fisicamente anche fisicamente appoggiati tutti mi dicono pensa a te pensa a te pensa a te io dentro di me dico bello bello tutto ma non ho tempo e si fa con amore ma anche con tanta fatica anche a livello mentale ma a proposito ma io mi sembra che ti dovevo prenotare una visita sento un'ansia costante sì sì mi è capitato anche di svegnarmi durante la notte con oddio oddio è come se avessi paura perché comunque sia se mia mamma dovesse aggravarsi io dovrei per forza trasferirmi qui da lei tutti i giorni io penso ho una figlia unica e se dovesse succedere a me prego Dio di non arrivare ad essere invalida ciao ciao buona serata grazie dico solo questo unica cosa serve la politica cosa dovrebbe servire la politica noi vorremmo che i politici si occupassero solo di questo di darci una visione questo è il mondo che abbiamo davanti abbiamo un mondo dove nei prossimi vent'anni il numero degli anziani aumenterà e ci saranno sempre meno figli perché abbiamo meno giovani che potranno occuparsi quindi bisogna che chi fa lo statista abbia una visione del futuro e a me quello che sconvolge è che non senti mai li senti litigare i politici su tutto ma su queste cose cioè sulla carne viva della nostra vita non parlano sembrano poco interessati Agnese ma questa è la realtà che è l'inizio perché nei prossimi decenni questo fenomeno che effetto ti fanno queste storie sembrano disinteressati perché c'è sempre la visione opportunistica tale per cui nelle questioni legate alla cura al prendersi al prendersi sicuro e al cuodire c'è sempre qualcuno che può sostituire lo Stato e quel qualcuno ancora oggi il 99,9% dei casi sono le donne la generazione della signora che avete fatto vedere poco fa nel servizio è la generazione che più di tutte ha patito che cosa l'essere rimasta schiacciata come in un panino tra il prendersi cura prima dei figli che è ricaduto su queste donne e poi dell'accudire i genitori anziani una vita quindi compressa nel grande dilemma la signora dice molto bene dice io lo faccio con amore certo perché nel prendersi cura e all'accudire c'è ovviamente l'aspetto dell'amore e anche del dovere filiale o parentale che esiste ma quando quell'amore diventa un obbligo senza via d'uscita in cui non c'è alternativa in cui non c'è la possibilità di avere un aiuto che ci consenta di maturare e far crescere una nostra interiorità una nostra vita i nostri sogni ecco quello lo diceva di nuovo la signora benissimo la maniera che mi ha commosso è una gabbia è una prigione su cui lo Stato scarica volentieri le proprie responsabilità tanto c'è ci sarà sempre una madre o una figlia che non potranno fare a meno di occuparsi quanto parli bene anche tu hai detto non saprei dire meglio proprio penso Camilla ti ho visto molto commossa molto commossa perché io ho vissuto una situazione molto simile in famiglia mia nonna ha avuto una grave forma di Alzheimer quindi mia mamma l'ha dovuta accudire fino a che è diventata invalida al 100% quindi è una condizione che conosco molto bene e ho vissuto soprattutto il dramma di mia madre non solo nel doversi prendere quella di lei ma nel senso di colpa che provava nel sentirsi inchiusa in questa gabbia perché poi c'è anche questo dramma psicologico per cui una figlia non dovrebbe mai fare da mamma alla propria mamma cioè non è fisiologico è strano è già una condizione molto complicata da processare psicologicamente in più vivi anche questo senso di colpa di dire io vorrei vivere la mia vita invece devo accudire mia mamma e quindi sei disperata perché tua madre la ami però ami anche te stessa ami anche la tua vita e mia madre è stata schiacciata in quell'esatto panico poi a tua volta magari hai una famiglia e dei figli di cui occuparti assolutamente di cui noi eravamo grandi noi eravamo grandi per fortuna e per fortuna mia nonna aveva anche una pensione che permetteva a un'operatrice di occuparsi di mia nonna per gran parte del tempo mia mamma lavorava quindi deve anche gestirsi come la signora il lavoro con l'accudimento è una condizione veramente drammatica drammatica che conosco molto bene Lodo che futuro ci aspetta come lo immagini il mondo del futuro chi si prenderà cura degli anziani in futuro i problemi sono ovviamente concatenati è chiaro che in un paese in cui il sistema lavoro è al tracollo tutti i lavori non solo quelli di cura le persone sono generazionalmente sempre più scoraggiate a fare figli nascono sempre più figli unici come me e quindi diciamo la rete sociale che ti che ti fa da salvagente si sfalda sempre di più le maglie si allargano sempre di più e non è un caso che non ci siano politiche di lungimiranza perché questi sono i problemi veri di un paese tu non li risolvi entro la prossima campagna elettorale quindi non pagano elettoralmente non ti portano voti perché ci vogliono c'è i risultati di vedere la generazione di politici successiva che ci vogliono vent'anni per risistemare questa cosa Roberto ti ho visto molto colpito molto colpito perché a parte il fatto che abbiamo avuto dei casi mia moglie quando ha avuto l'alzheimer mia suocera che abitava a Verona ogni qual giorno ogni 3-4 giorni andava a Verona a tenerli e poi ogni minuto devi guardare il telefono ti sei da classe continuamente della chiamata però il problema è duplice nel senso che lo stato sociale non basta da solo dovrebbe esserci però quello che porta un familiare amato è diversissimo dallo stato sociale e lo stato dovrebbe dimezzare la problematica della persona della persona che si occupa del malato del vecchio del anziano perché oltre a cure quotidiane di tutti i giorni ci vuole quella carica che si chiama affetto anzi si chiama amore e lo stato l'amore non te lo dà non te lo dà la persona che ti sta vicina in più un vecchio è una cosa sacra io mi ricordo sempre ho sempre l'immagine perché sono un grecoide di Antigone che accompagna suo padre ci fa una lezione bellissima suo padre cieco continuamente dovunque vada lo accompagna suo padre cieco mi ricordo una bellissima frase senegalesi questa non c'entra niente quella invece che dice che un vecchio quando un vecchio vecchia ancora di più e soprattutto quando un vecchio muore è come se andasse a fuoco una biblioteca è bella questa frase ed è vera senti Roberto apriamo un'altra pagina della vita di tutti noi è anche diventata anche una pagina di lotta politica questa settimana ed è l'enigma il vero enigma del nuovo codice della strada perché dico enigma perché che in votazione ha la camera perché nonostante inasprisca le pene specialmente per chi guida usando il cellulare e preveda io dico finalmente l'obbligo anche di targa di assicurazione di casco per i monopattini ecco a molti sembra troppo permissivo tanto che il segretario del PD Elislein lo ha definito codice delle stragi ma soprattutto a guidare la protesta e questo ci fa riflettere con un appello pubblico a Giorgia Meloni sono i parenti delle vittime degli incidenti stradali quindi vediamo un pezzo di questo video con cui loro fanno questo appello a Giorgia Meloni sentiamo qua è il luogo in cui mia figlia Lucia è stata uccisa da una persona che guidava un'auto a una velocità assurda Michele si stava allenando per il Giro d'Italia è stato ucciso sulla strada un uomo alla guida di un furgone che ha voltato a sinistra non l'ha visto l'ha investito e l'ha ucciso è successo che una persona ha fatto un sorpasso multiplo ad alta velocità in prossimità di un incrocio e quindi ha deciso per mia mamma ecco il video poi è molto più lungo la prima persona che avete visto nella clip si chiama Angela Bedoni e la sera di Natale del 2004 quindi quasi 20 anni fa ha perso la figlia adolescente Lucia che stava pensate 23 quasi 20 anni fa 2004 che stava rientrando a casa a piedi con delle amiche e fu travolta da un SUV guidato da un uomo con troppo alcol diciamo così per usare un eufemismo in corpo che sfrecciava in un centro abitato a 100 all'ora ecco sono passati 20 anni e io vorrei collegarmi con Angela buonasera Angela buonasera buonasera e grazie per per aver accettato il nostro invito so quanto dolore le costa ma so quanto è anche importante tenere l'attenzione su questi temi intanto le vorrei chiedere a 20 anni di distanza riuscite in qualche modo insomma non dico ad accettare perché insomma a fare i conti con questa con quanto è successo allora 20 anni sono tanti e sono pochi nello stesso momento allora quello che si è cercato a fare in questi 20 anni è cercare di dare un senso a qualcosa che non ha senso perché la perdita di un figlio non ha senso ecco e un po' l'appello che abbiamo fatto in questi giorni rispetto alla nuova legge è proprio nasce un po' da questo da un lavoro che è stato fatto in questi anni rispetto proprio al tema della viabilità della strada dell'importanza ecco scusi Angela cos'è che non funziona qui se le interrompo cos'è secondo voi che non funziona in questo nuovo codice della strada proposto dal governo allora secondo me non funziona perché ha un impianto repressivo rispetto sicuramente sono da sanzionare le persone che guidano ubriache le persone che usano sostanze però la maggior parte degli incidenti degli omicidi stradali avviene statisticamente non per per chi guida ubriaco o per chi usa sostanze ma per la velocità per l'uso della velocità e questo aspetto non viene considerato anzi il tema famoso delle città a 30 all'ora che veramente a livello e sia a livello europeo e anche l'organizzazione mondiale della sanità dicono che è fondamentale e dimostrato statisticamente che la riduzione delle morti è proprio dovuta è importante perché con la riduzione della velocità si può avvenire perché l'impatto è meno violento perché esattamente ecco lei cosa prova quando legge le storie di questi nuovi eroi popolari che abbiamo lì così flexi man quello che butta giù gli autovelo so dosso man esiste anche dosso man quello che smonta i dissuasori ecco questi personaggi che hanno molto seguito nell'opinione pubblica qual è che effetto fanno intanto un effetto di rabbia molta rabbia anche perché l'autovelox è fondamentale importante è un deterrente rispetto alla velocità purtroppo e poi diventano vengono diventano delle figure che emulate e questo è un pericolo è molto pericoloso e grave certo oltre a essere un'offesa verso tutte le persone io parlo dico della mia storia ma anche la storia di tanti altri pensiamo che in Italia sono 3.000 le persone morte sulla strada e diventa un'offesa ecco nei confronti di tutte le famiglie che hanno vissuto che vivono che hanno vissuto questa situazione Lodo non crede che ci sia anche tanta ipocrisia no? Cioè da un lato ce la prendiamo con chi va troppo veloce ma dall'altro detestiamo gli autovelox perché comunque diciamo no i comuni li hanno messo lì apposta per spillarmi i soldi cioè c'è un po' anche dentro di noi una lotta ma guarda io premetto una cosa mi sembra giusto su questo argomento io non guido e non ho la patente quindi non sei pericoloso per te e per gli altri diciamo posso darti una lettura un po' più generale della questione credo che tendenzialmente ognuno di noi ha la presunzione di pensare che se tutti facessero come lui non ci sarebbero problemi in realtà le regole servono a stare insieme non a fare in modo che gli altri facciano bene come te Camilla Angela diceva quanto una vita a 30 all'ora che ci può sembrare così abituati ai nostri ritmi frenetici uno sconvolgimento però c'è un impatto effettivo in città però non in autostrada qui si parla chiaramente nel traffico cittadino se ne parla spesso è vero che con l'uso terribile che facciamo del telefono in macchina andando più piano ci sentiremmo paradossalmente quasi più autorizzati a chattare come succede spesso io li vedo al volante questi che usano però è vero che qualunque impatto a 30 all'ora non è mortale come lo è invece a 50 o a 60 ma tu riesci a immaginare da donna giovane riesci a immaginare un mondo una vita cittadina a 30 all'ora io non solo la immagino me la auguro io guido vengo dalla provincia quindi in provincia o hai la macchina o sei bloccata guido molto e soprattutto sul web io sono ormai 4 o 5 anni che ho iniziato la campagna di sensibilizzazione per non utilizzare i telefoni alla guida perché i miei colleghi li vedo spesso fare stories mentre guidano e la risposta che mi danno è ma no ma io sto guardando la strada metto il rec che guido e no perché quello comunque ti distrae il primo ospite delle parole 8 anni fa è stato e lo salutiamo sempre il grande Alex Danardi e la prima cosa che disse nella prima puntata del nostro programma fu proprio dire non usate il cellulare per favore al volante e questo io lo continuo a ripetere su tutti i social che ho probabilmente passerò per antipatica non lo so per che cosa però io credo che questo potrebbe davvero fare la differenza Angela le volevo chiedere ancora una cosa è una domanda che spero che tutti sentendo la sua storia si fanno cioè questo quest'uomo che ha investito e ucciso sua figlia non si è fatto neanche un giorno di carcere perché allora non c'era ancora il reato esatto ancora il reato è stato poi una battaglia che è stata fatta da tante associazioni da noi da noi perché avevamo costituito un comitato vivere meglio la città e poi da tante associazioni in Italia per chiedere che venga riconosciuto l'omicidio stradale è stato riconosciuto nel 2016 quindi la persona che allora nel 2004 che ha ha ucciso Lucia ha praticamente avuto il ritiro della patente per sei mesi neanche definitivo per sei mesi ragazzi pochi mesi no per sei mesi purtroppo era sì ma avete avuto un rapporto e vi ha chiesto scusa c'è stato un momento diciamo in qualche modo di ricomposizione almeno umana ha rimosso no c'è stato il processo e fino al terzo grado è stata riconosciuta la colpa però non c'è stato insomma allora era così Roberto è brutta lo so è difficile da pensarla e dovremmo essere tutti attenti a queste cose tutti ma anche mi permetto di dire non tutti ma certi ciclisti e motociclisti non è che sia colpa solo degli automobili no chiunque sta sulla strada non deve sentirsi perché si vedono cose incredibili in città incredibili personalmente devo stare attento quando guido con sei occhi quando guido la macchina perché magari hai il che succede parliamo poi dei pedoni i pedoni sono spesso non guardano nulla perché è come fosse il deserto dell'aiuta cioè loro passano e chissà chi c'è chi non c'è si deve fermare bisogna stare attenti tutti quindi non soltanto le macchine del genere che va come padre ma anche due ruote non tutti perché per fortuna c'è un grande civismo in tanti ciclisti ma in pochi in alcuni no dica signora Angela sì no volevo dire questa cosa che sicuramente sicuramente il discorso della responsabilità vale per tutti chiaramente però il ciclista rischia di più rispetto a un'automobile e ci vuole un'attenzione e ci vuole anche che la città sia costruita sia per me permetta il discorso ad esempio di maggiori piste ciclabili che sia fatta per le persone sicuramente purtroppo la legge anche su questo punto ridimensiona perché la costruzione di piste ciclabili la ZTL eccetera dovrebbero essere decise non più a livello comunale ma a livello ministeriale per cui questa cosa non funziona ecco non va bene quindi insomma un codice della strada troppo misura da automobilisti questa è almeno la posizione signora io la ringrazio tantissimo davvero grazie per aver voluto testimoniare questa sera restate lì perché adesso la nostra la nostra platea si allarga stanno arrivando Lidia Ravera e Cicilia Sala restate lì perché ricominciamo indegnate da che cosa? dalla lezione del professor Vecchione dopo la pubblicità in altre parole bentornate guardate chi ci ha raggiunto Lidia Ravera per prima volta quest'anno da noi e la nostra Cecilia Cecilia Sala che questa sera ci parlare di un tema apparentemente leggero ma no perché partiremo dalla foto la famosa foto di Kate Middleton per fare un ragionamento invece sulla differenza fra il falso e il vero che è tutt'altro che gossip tutt'altro che superficiale però prima caro Roberto devo con te così festeggiare la nascita di una nuova squadra di calcio la 7 Football Club perché questa settimana e questa settimana due grandi conduttori di questa rete sono così finiti alla ribalta per ragioni calcistiche intanto questa squadra ha già trovato l'allenatore guardiamo la foto è Giovanni Floris che seriamente sta facendo il corso per avere il patentino da allenatore ha detto io nella mia prossima vita quando andrò in pensione mi metterò ad allenare e cominciamo magari già faremo già la storia e poi abbiamo già anche il capo della curva il primo tifoso guardiamo questo video e questo è Enrico Mentana a Madrid con i tifosi della tua Inter no non parlerò dell'Inter non parlerò dell'Inter siamo qui per salutare Giovanni ed Enrico appunto che era qui in versione da tifoso ma per chiedere a te quando è nato il tifo oh che bella cosa il tifo è nato in Grecia chiaramente è tutto cosa che non è nato in Grecia è nato in Grecia le prime grandi manifestazioni sportive sono greche la più guarda la più quella che conoscono tutti è quella dell'Olimpiadi ogni quattro anni mi ti arriva ad andare alla tua lavagna ma sì e lì ti aspetta mi lasci sempre poco tempo questo è un discorso lunghissimo ma poco tempo è appena cominciato vai la ti lamenti le Olimpiadi le conoscono tutti ma non sono gli unici giochi e ce ne sono anche altri ci sono giochi pitici ismi cinemei dipende dal dio che bisogna celebrare in diversi periodi naturalmente non tutti i nostri giorni perché cambiavano io prendo la birra per prendere appunti sai che a questo punto la concezione sportiva del greco era sacra era altissima importantissima innanzitutto non c'erano squadre non c'erano sport di squadra erano sport singoli erano individualisti in questo sempre individuali cioè gli atleti erano non solo avevano un seguito spaventoso erano degli eroi c'erano poeti come Pindaro e Bacchini che sono come dire grandissimi poeti come i nostri grandi montale o quasi che cantavano continuamente questi eroi di queste imprese meravigliose scusa mi piace dirlo davanti a te i famosi lirici greci che abbiamo studiato a scuola detti così perché si accompagnavano con la lira quindi erano i cantautori non abbiamo purtroppo le registrazioni stiamo parlando di sport ma devo farmi bello con quel professore dai pensa un po' che fin dai ragazzi i ragazzi vedi i ragazzi si esercitavano in luoghi esterni aperti che si chiamavano ginnasi ginnasi da cui viene il nome poi anche della scuola adesso ti spiego perché viene il nome della scuola perché viene da allora ginnos sai cosa significa ginnos no significa nudo e infatti vedi cioè ragazzi nudi infatti il ginnasio è il posto dove i ragazzi nudi si esercitano e questo avveniva soprattutto qui è in città avveniva soprattutto nelle campagne poi in epoca storica più avanti le olimpiadi cominciano nel 1776 avanti cristo quindi ancora quando c'era l'aristocrazia già nel sesto quinto secolo entrano in città i ginnasi e oltre ad avere il significato sportivo cioè quello corporale assumono significato intellettuale due ginnasi fondamentali sono l'accademia e Platone chi è l'accademia? Platone bravo che prese il parco dell'eroe accademo di Aristotele ma che bravo è davvero quello è il minimo vabbè dai avendo fatto il ginnasio no invece seriamente una cosa che magari non tutti non sanno per i greci veniva prima l'educazione fisica assolutamente prima Platone si chiamava Platone perché era muscoloso aveva le spalle larghe quindi veniva prima la preparazione era fondamentale per gli spartani poi non parliamo prima i bambini dovevano imparare a fare sport accademossa era un dio che proteggeva il bosco sacro intorno ad Atene per questo si chiama accademia liceo viene da Apollo liceo che si sconfigge i lupi e questa è la situazione da corpo all'anima tu prima parlavi di corpi nudi allora mi hai fatto venire ma io lo volevi dire dopo ma ti chiedo di dircelo subito perché ci sta bene qua la storia della famosa Callipatera di Rodi che è un personaggio su cui bisognerebbe girare un film credo la donna straordinaria ma tanti sono gli eroi sono tanti le leggende su questi eroi sono tanti alcune sono divertentissime tu mi hai chiesto subito di Callipatera perché ha a che fare col nudo è rodiese Callipatera significa di padre bello di padre importante Patera padre Callipatera perché era figlia di uno che aveva vinto le olimpiadi lei cosa fa questa è una storia bellissima era proibito per le donne anche assistere alle olimpiadi perché è successo è successo in un'olimpiade che ha un ginnasta cioè veramente ha un lottatore è caduto per izoma e quindi si è visto tutto e c'erano delle donne che si sono gli uomini che sono avevano una pruderia greci tremenda da oggi in poi colpa delle donne se quello lì ha perso le olimpiadi sempre colpa delle donne perché allora Lidia allora il patriarcato era veramente al massimo della sua diciamo adesso non è che tu che hai perso il perizoma tu che hai perso il perizoma sei un 5 puntini no no colpa delle donne che erano qui a vedere tu che te lo pedevi quindi basta via fuori le donne ma lei voleva andare a vedere il suo figlio perché c'era il figlio l'amor di madre che stava combattendo e si veste da allenatore cioè si veste da uomo ma anche la faccia avrà messo una barba ma ha fatto no barba no si mette un bel colpicano non c'è problema entra dentro vede tutto benissimo finché esce non c'è un'uscita precisa allora scavalca uno steccato e gli cade tutto e diventa rimane nuda e viene presa e avrebbe dovuto essere con d'altra morte addirittura per una cosa del genere viene salvata perché suo papà aveva vinto un'Olimpia e anche altri suoi parenti aveva vinto un'Olimpia le medaglie il peso delle medaglie questa è una donna ma ci sono personaggi e quindi dopo di lei cioè proprio per evitare altri casi simili da quel momento è lì che succede che gli atleti devono essere tutti nudi in gara no chiedo cosa stai dicendo eh no chiedo ma guarda c'è fare le lezioni interattive scusami ma se lo scrivi sul caffè ci ridono tutti dietro non è così no no è questo il fatto e qui l'atleta deve essere nudo perché deve far vedere proprio com'è lui dentro il corporeo in Grecia è bellezza è bellezza assoluta e quindi questo è il discorso è il fatto importante questo è Mirone Mirone è il discorso il disco pesava due chili mica tanto si lanciava circa 50 metri mica tanto non è oggi si lancia molto di più era una delle discipline del pentatron che era l'altra disciplina bellissima del pentatron questa è divertente salto in lungo come saltavano in lungo sui 5 metri ma avevano due pensa ai ferri da stiro avevano due ferri da stiro in mano molto pesanti e quando spiccavano il balzo li tiravano indietro per fare il salto più lungo ma dai ci tenevano in mano due pesi si si chiamavano alteri questi questi martingini e poi c'è le altre specialità il giavellotto il giavellotto pure cioè aveva un posso dirtelo sono lungo no aveva una cosa bellissima una fettuccia di cuoio a spirale in modo che lanciando l'orteasse su se stessi e andasse più lontano possibile anche questa è una trovata dei greci gli eroi ti dico qualche eroe quello che mi viene in mente il più eroe di tutti è Milos di di Crotone di Crotone Crotone è una città della Magna Grecia Milos di Crotone era un lottatore straordinario fortissimo che svolgava un bue da solo tanto per dire ti dico una particolarità se si metteva su un disco oleato nessuno riusciva a tirarlo giù con tutto che era oleato il disco talmente era e sai com'è morto è morto molissimo è morto dicendo che lui infilando le dita in una quercia tirava via la quercia le dita gli sono rimaste infilate nella quercia e le belge lo hanno mangiato e ride proprio perché sorridi è una cosa terribile è una cosa terribile ultima cosa che ti chiedo vieni a sederti ce ne sarebbe un'ultima un'ultima Olimpicos che questa è bellissima allora Olimpicos fu tanto sfigurato in una gara di pugilato che il suo fratello lo portò davanti ai giudici e disse questo non è mio fratello e si beccò lui l'eredità hai capito che furbacchioso l'ha fatto sfigurare lui senti ma i premi erano premi sostanziosi come adesso o era solo la gloria erano solo la corona dell'oro no non c'era la corona dell'oro è una cosa fantascientifica ecco lo vediamo olio come olio oltre alla corona dell'oro olio cioè tanti vasi d'olio olio vergine d'oliva era il premio era il premio sì ma si arrivava anche a centro vasi per le cose più importanti e si portavano a casa questi questi meravigliosi vasi d'olio che qui probabilmente il vaso era meglio dell'olio tanto per dire quindi tu cosa ti dici oggi ai giocatori dell'Inter se come premio partita gli proponessi un vaso d'olio un bel po' di calcio in culo ecco no ecco qui diciamo il professore va bene benissimo fermiamoci qui e ora vi mostro la foto della settimana quella su cui abbiamo tutti avuto qualcosa cosa da dire da riferire vediamola qua è la foto di Kate Middleton quella famosa ritoccata photoshopata come si dice adesso che anziché frenare i complotti le dietrologie sul salto di salute della principessa del Galles li ha moltiplicati dando proprio voce a tutta la dietrologia e ci riassume la vicenda il nostro navigatore nel mare dei social la influencer Andrea Nuzzo guardiamo una cerniera che scompare nel nulla il pavimento che va a zig zag l'area sfocata vicino al ginocchio della piccola Charlotte queste sono solo alcune delle incongruenze all'interno dello scatto rilasciato da Kensington Palace come prima immagine ufficiale di Kate Middleton dopo il ricovero per l'intervento all'addome la foto però più che dare una risposta ha generato mille domande sulla sua autenticità tanto che poche ore dopo la sua pubblicazione diverse agenzie di stampa internazionali hanno deciso di rimuoverla dai loro cataloghi fotografici perché come si legge in questa nota di Associated Press la fonte ha manipolato l'immagine nel frattempo sui social di tutto il mondo spuntano commenti come questi mi sembra un fotomontaggio ci sono un po' troppe foglie sugli alberi per essere marzo non c'è bisogno di essere un foto editor per capire che è photoshoppata e si diffondono meme che la usano in chiave ironica ma di fronte a tante incongruenze arriva la risposta ufficiale un tweet di Kate Middleton in cui si legge come molti fotografi dilettanti di tanto in tanto mi cimento nell'editing delle immagini volevo esprimere le mie scuse per la confusione causata dalla fotografia di famiglia che abbiamo condiviso ieri il tweet che avrebbe dovuto chiarire solleva invece ulteriori perplessità online e non solo iniziano a diffondersi varie ipotesi e teorie del complotto tanto da far volare in tendenza gli hashtag Kate Spiracy e Where's Kate la tesi più accreditata è che si voglia mostrare una principessa in salute quando in realtà la situazione è ben più grave di quel che sembra insomma il caso è ancora aperto e la cosa certa è che continuerà a far discutere non solo gli appassionati delle vicende reali inglesi grazie come sempre all'Andrea Altaglio che dà ai suoi racconti social allora Cecilia il tema qui al di là ovviamente del caso da cui si parte quello di Ken Middon è come facciamo ancora e come faremo in futuro a distinguere il falso dal vero sì gli esperti ci mettevano in guardia da anni sui rischi dei deep fake dicendo arriveremo al punto in cui ciascuno di noi crederà soltanto a ciò a cui ha testimoniato di persona se anche la casa reale anche della foto ufficiale pubblicata dalla casa reale d'Inghilterra non ti puoi fidare può essere finta cosa di quello che vedi di ciò che fino a ieri o all'altro ieri consideravamo prova una fotografia un video come farai a fidarti e le teorie del complotto si alimentano dell'idea che nulla più è la prova di un evento anche perché con l'intelligenza artificiale sarà ancora più facile fare delle cose fatte bene difficile da scoprire i media che sono vicini alla Repubblica Islamica dell'Iran per esempio da due anni da quando sono cominciate le proteste a settembre del 2022 dicono semplicemente che i video e le fotografie delle manifestazioni delle ragazze in Iran dopo la morte di Massaginamini che si tolgono il velo sono finte e trent'anni fa non avresti potuto giustificare in questo modo sono fabbricate in Occidente c'è un caso molto interessante perché è il primo di questo genere in un tribunale internazionale la Russia di fronte alla Corte Europea per i diritti umani che è sotto processo per i crimini di guerra commessi in Ucraina antecedenti all'invasione totale quindi prima del febbraio del 2022 sostiene che questa fotografia che mostra un soldato russo al confine con l'Ucraina da dove l'artiglieria russa ha sparato contro gli ucraini in Donbass è una prova importante perché testimonia che non era una guerra civile che c'era una presenza russa da ben prima del febbraio del 2022 i russi semplicemente come difesa dicono questa foto è falsa questa foto è generata dall'intelligenza artificiale questo soldato non esiste per fortuna poi è un'inchiesta molto complicata di Bellingcat che sono gli stessi che hanno fatto l'inchiesta che ha dimostrato quali erano gli agenti segreti russi che avevano avvelenato Navalny ma il solo diciamo anche senza produrre un video falso o una foto falsa la sola possibilità dei deepfake ci getta in un'assoluta confusione cioè chiunque può dubitare di qualcosa che in realtà è vero vale per la foto della principessa del Galles vale per i crimini vale per le guerre come in questo caso appunto questo è il primo caso in cui viene conflutata una prova visiva da un paese sovrano dalla Russia sostenendo che è generata con l'intelligenza artificiale il magazine americano Atlantic ha fatto un pezzo molto interessante partendo dal caso Kate Middleton dicendo che è la fine della realtà condivisa cioè ciascuno di noi può decidere di credere al pezzo di realtà che vuole tanto nessuna prova ormai vale più o può diffidare di tutto può diffidare di tutto ormai non puoi proprio più fidarti di tutto e viene alimentata appunto non solo dai complottisti ma dalle massime istituzioni quindi è un po' come dire diventeremo con questa capacità di creare contenuti falsi che assomigliano moltissimo a quelli veri diventeremo tutti complottisti ma c'è stata anche una vicenda di Trump se ricordo bene una foto famosa di Trump assolutamente del Papa ma vedremo nella campagna elettorale americana ecco questa foto per esempio è finta sì falsa ma appunto eh? si vede lo dici tu che adesso lo sappiamo ma posso dire mai che lui ha bracci ma magari per prendere voti potrebbe averlo anche fatto no? e invece l'ha voluti prendere a posto i voti facendo la foto senza però doversi sottoporre a quello che per lui sarebbe stato ne vedremo sempre di più diciamo di immagini così ma appunto secondo me la cosa più interessante non è tanto le immagini false ma il fatto che la possibilità di produrre così tante immagini false verosimili ci farà dubitare delle immagini vere e delle proche abbiamo fatto tanta strada tecnologica tante conquiste tecnologiche per ritornare a prima a quando ci si poteva fidare soltanto dell'esperienza e degli occhi è di nuovo così o sei presente oppure la menzogna è scontata e comunque la manipolazione è scontata però noi sappiamo che ovviamente non possiamo essere presente a tutto ciò che accade nel mondo e il 99% delle cose su cui ci formiamo un'opinione ci arriva ma in più con opinioni così polarizzate se qualcuno avesse scelto di dire che le immagini ad esempio quelle terribili di Gaza della distribuzione degli aiuti fossero sono false magari una fetta importante dell'opinione pubblica mondiale ci avrebbe creduto è qualcosa di nuovo però non è un futuro fantascientifico ecco ci siamo già dentro io chiedo qui abbiamo un direttore una direttrice di giornale Agnese cioè noi abbiamo anche il problema nei giornali della rapidità in cui bisogna far uscire le cose qui invece ci vuole sempre più tempo per fare delle verifiche se no si rischia di fare delle gaffe spaventose guarda mentre parlavano Cecilia Sala e Lidara Vera avevano molto ragione entrambe nel dire che il rischio vero è che non ci si fidi più di nulla è un rischio gigantesco questo per tutto e pensa che il ruolo straordinario potremmo avere noi giornalisti per essere degli arbitri di verità perché la prima cosa che si richiede ai giornali giornalisti è quella di verificare le notizie ora il cortocircuito legato all'uso che i giornali fanno del web e dei social quindi non al web e social ma all'uso che noi ne facciamo è che si rischia di venire meno a questa regola sacrosanta che esiste nel giornalismo ora che il giornalismo ha messo piede sulla terra quindi è proprio l'ABC e che ci hanno insegnato anche noi quando siamo entrati per la prima volta in una redazione e cioè che si verifica sempre che non si copia mai ora che cos'è che produce il web producono il web e i social che si verifica poco perché hai poco tempo e che spesso copi cioè se una notizia diventa virale su un social o su un giornale concorrente l'input che rischia di arrivare da tutte le redazioni a diversi livelli è sbrigati a metterlo anche tu non sbrigati a verificare che sia vero perché nel frattempo sono l'altro sito guadagna è un cortocircuito pericolosissimo per la nostra professione credo perché non risponde più alle domande che si fanno io sono terrorizzato io non so più a cosa credere di quello che vedo di quello che leggo non so se sono più spaventato dall'aumento dei possibili complotti o da quello dei possibili complottismi c'è un'intervista degli anni credo fine anni 90 di David Bowie dove gli chiedono se è entusiasta dell'arrivo di questa cosa strana che si chiama internet che ci permette di entrare in connessione con qualsiasi parte del mondo immediatamente da casa nostra e lui ha detto e lui diceva una cosa molto brillante secondo me diceva è una forma di vita aliena mi spavento perché è una forma di vita aliena gli crediamo a David Bowie Camilla tu che ci sguassi tutto questo il tuo lavoro come ti destreggi tra vero e falso? secondo me c'è anche un altro grosso problema che è quello della proprietà intellettuale perché l'intelligenza artificiale comunque prende dal web senza arrivare magari a foto di politica pensiamo semplicemente alla generazione di un'immagine non so di un quadro di una situazione molto più semplice l'intelligenza artificiale prende da illustratori e da tutte le immagini che trova sul web quindi c'è tutta questa giusta polemica che viene dagli artisti che dicono a me che mi paga e quel pezzo che è stato preso l'ho fatto io e quindi questo è un altro grosso tema che non si fa il New York Times ha fatto una super causa all'intelligenza artificiale perché si è a talmente un archivio talmente che può fare che veniva fuori che gli articoli che in teoria aveva scritto l'intelligenza artificiale erano semplicemente copiati noi invece abbiamo Roberto la fortuna di avere un unico caso qua dove l'intelligenza artificiale non c'entra niente forse neanche l'intelligenza non lo so sarebbe Raimondo buonasera buonasera allora lei è vero lei è vero o falso è piuttosto vero ma no no ero falsissimo non è verissimo no allora vorrei intervenire anch'io su questo dibattito nella foto di Kate Middleton no non lo faccio e no e qui ne parlano tutti scandalo a corte ecco allora ma quale scandalo voglio dire lo facciamo tutti tutti noi ritocchiamo le foto con foto lo facciamo persino Massimo Gramellini non tutti sanno che Massimo Gramellini fa delle impercettibili modifiche alle sue foto vediamo per esempio questa sono modifiche impercettibili però guardate in questa foto ecco allora attenzione a guardarla non si nota niente di strano ma c'è l'indiarare stasera ma mi faccia fare bella figura anche Lidia metterà guardando quello è Massimo Gramellini che c'è di strano ma perché e qui dà la regia di segnalare l'anomalia di questa foto Massimo Gramellini cosa ha fatto con Photoshop ha cancellato la fede al dito ecco lì vedete perché per fare il marfione con le vecchie lui cancella la fede al dito ecco poi ci sono in realtà altre sette piccole differenze che però non si notano occhio nudo uno dovrebbe stare lì a concentrarsi comunque Garo Gramellini bene togliamo facciamo una bella modifica anche a questo programma lo renda più brutto con la mia rubrica per farlo non le serve neanche utilizzare Photoshop le basta dire una semplice parolina sigla bravo vada scompaia no 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 allora questa settimana questa settimana è arrivato lo stop del comitato scientifico alla costruzione del ponte sullo stretto di Matteo Salvini c'è dolore molto e c'è dolore però purtroppo sono stati ben 68 rilievi tecnici fra i quali il mancato aggiornamento dei test per vento e sisma che per una zona ventosa e sismica come quella fra Messina e Reggio Calabria è come fare la carbonara con le uova marce il guanciale di seitan e al posto del pecorino la forfora di Matteo Salvini però ne va sempre a cercare la piccola cosa e vabbè il dettaglio il dettaglio non gli vuol bene inoltre il comitato tecnico ha spiegato al ministro Salvini che il parquet sul ponte non si può mettere perché le macchine lo graffiano e con l'umidità si gonfia la Sicilia non si può buttare giù perché è portante e soprattutto hanno avuto da ridire sul fatto che il capocantiere ha studiato ingegneria all'alberghiero ma veniamo ora al cantante Pupo che questa settimana è volato in Russia per registrare uno show televisivo al Cremlino il cantante ha dichiarato di averlo fatto per la pace anche se secondo gli esperti militari della Nato un concerto di Pupo può essere considerato a tutti gli effetti un escalation peggio c'è soltanto la bomba atomica e un concerto di Albano durante lo show comunque Pupo ha cantato tutti i suoi grandi successi tra i quali Bosca Santa Maria Novella fu di noi nemmeno una nuvola radiativa e gelato al Polonio e a proposito di guerra questa settimana dopo l'abbattimento di alcuni droni sul Mar Rosso gli uti hanno minacciato l'Italia hanno detto gli uti che noi siamo loro nemici ecco io mi rivolgo agli uti all'ascolto ma come facciamo a essere i vostri nemici manco sappiamo chi siete voglio dire non è vero non sapevamo nemmeno della vostra esistenza prima di queste tensioni nel Mar Rosso peraltro qui in Italia nessuno ha capito per cosa si combatte lì e anche adesso che ci avete minacciato non sappiamo manco come vi chiamate sentite qua e ne fa parte anche il caccia torpediniere d'Uilio che nei giorni scorsi ha abbattuto un drone lanciato dagli uiti significa per noi porre fine ai danni economici che stiamo subendo a causa dell'iniziativa degli uiti uiti e questo era il deputato e la lega Anastasio Carrara insomma vabbè chi era era concludo concludiamo concludiamo con lo sport con lo sport visto che anche il professore Vecchioni ci ha introdotto allo sport perché domani qui a Roma si gareggia la maratona quindi ci saranno disagi e la circolazione e strade chiuse insomma una giornata normalissima per la capitale attenzione perché fra i molti corridori ci sarà anche il pugliese Francesco Cannito di 65 anni di Altamura ex ferroviere celebre perché corre ma non è un photoshop quello che abbiamo visto no 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 certo corre tutte le gare in abiti curiosi particolari fra i quali spesso un abito oscuro con bombetta e allora colleghiamoci con Altamura Cannito buonasera ci sente? ci sento ci sento buonasera 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 dottor Cannito ecco la foto che abbiamo visto prima di Cannito che corre in appunto in abito oscuro in smoking e bombetta è vera ecco Cannito perché lei corre in smoking e bombetta? senti io sono un'ultramaratoneta e quando faccio le maratone non mi diverto più perché è troppo facile e quindi? quindi ho cercato di farla diventare un po' più complicata avevo un abito che non mettevo più e allora ho detto beh da domani correrò con l'abito mi scusi ma questo abito è vero che risale al matrimonio di sua figlia? sì perché lo comprai perché avevo una taglia 48 poi sono dimagrito e stavo nell'armadio lì e lui mi guardava sempre ma quindi scusi Cannito mi faccia capire lei adesso ai matrimoni ci va in tuta non ho capito sì vado in pantaloncini ecco ma lei che se ne intende di maratone è vero che è un po' inutile partecipare tanto come dice Ceccherini vincono sempre quelli del Kenya? no partecipa alla maratona è divertente una battuta super raffinata Cannito Cannito lei come maratoneta si ispira a Mentana? peggio peggio perfetto senta Cannito lei domani corre la maratona qui a Roma quindi cosa fa ancora lì ad Altamura? corra qui e fra quattro ore inizia venga qui venga di corsa qui in studio venga di corsa ad Altamura a Roma ora adesso corra qui corra adesso ovviamente ci vorrà qualche ora ovviamente da Altamura a Roma comunque ci vuole tempo però noi dobbiamo dare fiducia al signor Cannito dobbiamo fidarci che la sua preparazione atletica da qui a qualche ora lo porterà beh ma è incredibile Altamura a Roma in meno di un minuto quindi la sala da pranzo che abbiamo visto era a photoshop che era tutto increduto pensate vi fosse una casa io ho dubbi ho dubbi come dire io la invito a fare un test delle urine per l'antidoping perché veramente non si è mai vista una corsa del genere comunque io lavorerai come preparatore atletico quindi se lei è d'accordo io vorrei correre con lei la maratona domatti magari facciamo un giro di riscaldamento lo studio ok cominciamo magari se volete mandare la pubblicità nel frattempo io e Cannito vado bene? e Roberto Becchioni noi ci vediamo con Lidia Lavera con Jacopo Veneziani con l'invasione delle api dopo la pubblicità restate lì è stato il pubblico della sette abituate alle maratona bellissima bellissima vado bene? bellissima allora rientroci qua stanno correndo ancora ecco va bene io non sono come mentana non ce la faccio mi fermo qui che c'è da sedere vado avanti mi raccomando domani vinca la maratona di Roma e quando taglia il traguardo grida gramellini grazie Cannito allora alziamo il livello quindi lei può io prendo il piatto può prendere il piatto noi alziamo il livello perché come sapete chiediamo sempre ai nostri invitati di portarci alla cena del sabato sera qualche cosa e Lidia stasera ci ha portato il suo nuovo romanzo che si intitola Un giorno tutto questo sarà tuo che già ha un taglio ironico fin dal titolo tra le tanti filoni di questa storia come tutti i romanzi è meglio non anticipare anche perché ho il difetto che svelo sempre il finale dei libri quindi è meglio che sto zitto vorrei prendere però uno di questi tanti temi che Lidia pronta il protagonista un ragazzo che si chiama Seymour arriverà e dico solo questo a scagionare il padre da un'accusa quella di avere molestato un'attrice durante il provino quindi tu racconti una storia in cui la molestia si rivela falsa si rivela inventata è stata letta questa cosa anche come una tua riflessione critica sul fenomeno del me too è così? sì era proprio un rospo che dovevo sputare perché ho pensato che si dà in mano a una qualsiasi donna o ragazza e non basta essere donne per essere delle sante ci sono anche delle carogne o delle fragili per rovinare da in mano lo strumento per rovinare un uomo ho detto proviamo a riflettere coraggiosamente su questo e ho scelto l'io narrante di un quindicenne e non solo il protagonista ma l'io narrante ed è il figlio di uno scrittore di successo terribilmente piacione uno di quelli che vanno sempre in tv che fanno esattamente quello che sto facendo io stasera infatti sento il mio giovane protagonista che mi deride perché io non riesco a licenziarlo ormai abita dentro di me questo adolescente disadattato e personaggi definisce se stesso un quindicenne disadattato e ha un sogno che è scrivere un capolavoro e per scrivere questo capolavoro prende appunti sull'agitarsi sconclusionato dei suoi adulti di riferimento e quindi è il nostro mondo guardato dagli occhi di un ragazzino molto giovane per me è stato un doppio salto mortale e come hai fatto ad entrare dentro un quindicenne perché c'è un adolescente dentro che ho cercato più volte di licenziare per sorpassare i limiti d'età ma lei non se ne va allora ho deciso di premiarla facendola diventare protagonista ma maschio però perché mi preme molto raccontare lo sguardo pulito e impietoso di questo ragazzino che è ben deciso a diventare uomo essendo un uomo diverso da suo padre allontanandosi dalla cultura patriarcale che è quella che giustifica il che spiega almeno le molestie sulle ragazze sulle donne è sempre una questione di potere alla fine è questo ma è una questione legata anche a una domanda che varrà immagino speriamo nel futuro quando non ci sarà più una cultura patriarcale secondo te il rischio è che si possa riprodurre anche a parti invertite cioè che una donna di potere possa comportarsi come oggi fa un maschio di potere oppure no o proprio qualcosa di legato lo stesso maschile a parte il fatto che parliamo dei prossimi duemila anni perché siamo parecchio indietro sul piano della parità dai salari all'invecchiare alla cultura al rispetto alla dignità siamo molto indietro non abbiamo parlato prima forse avrei visto che non eri ancora in onda parlando di caregiver che sono quasi tutte donne sono quasi tutte donne molte straniere impariamo infatti a trattarli bene gli stranieri perché senza senza di loro coleremo tutti a picco però dicete con questa cosa il rapporto mi interessa cioè il potere condiziona poi tutto il resto sì perché il me too è secondo me straordinario ed è giusto cominciare continuare a denunciare perché non venga considerata una cosa ovvia che tu mi dai il lavoro se io ti do un passaggino nel mio corpo va benissimo questo però è un effetto bisogna curarlo come si curano gli effetti collaterali e andare alle cause e andare alle cause prima possibile allora io racconto con lo sguardo e con le parole di questo quindicenne disadattato io racconto un uomo innocente ma colpevole è una ragazza colpevole perché si inventa una palla per vendicarsi ma innocente perché lei è vittima di quella cultura e lui ha anche lui dice a un certo punto lui ammette quando viene poi riabilitato quando ritorna eccetera eccetera lui ammette che la sua generazione che è la tua generazione la nostra tu sei un po' più piccolo ma anche questo scrittore qua è un po' più piccolo quindi direi sì che ci siamo siete ce l'avete nel DNA la sopraffazione siete stati cresciuti così educati così noi tutti siamo stati educati a una cultura che disprezza le donne pensate soltanto a Adamo ed Eva Adamo viene costruito è un uomo questo giardino bellissimo si annoia allora gli tolgono una costola e fanno una donna ma vi rendete conto da dove partiamo da che tipo di in che tipo di cultura siamo vissuti cresciuti tutti per 2024 anni e forse qualcosina probabilmente anche prima dal tempo dei dinosauri sicuramente il dinosauro maschio se la capava meglio della dinosaura femmina sicuramente senti voglio chiederti ancora una cosa tu hai esito nel mondo della letteratura con porci con le ali e quindi hai raccontato già allora degli adolescenti oggi torno a raccontare ecco come come sono cambiati in quasi mezzo secolo gli adolescenti ma io non ho la pretesa di sapere come sono gli adolescenti io racconto un adolescente in particolare ed è una specie di prosecuzione di Rocco di Rocco Antonia è la seconda volta cioè prima era quella spero che questo mi porti fortuna sul piano delle vendite perché quello diciamo è andato piuttosto bene e questo arriva quasi 50 anni dopo con questo doppio salto mortale andrei come minimo premiata quello sì no? grazie anche l'applauso mi fa piacere però come c'è rispetto a quello come tu vedevi allora gli adolescenti oggi come ci sono nell'adolescenza come in tutte l'età della vita delle costanti e delle variabili le costanti sono sempre quelle un adolescente dell'inizio del novecento dell'ottocento del settecento o dell'anno numero tre dopo Cristo è uguale per le costanti a quello di oggi la costante che devi uscire dalla famiglia devi perdi la fiducia cieca e totale nei tuoi genitori il tuo corpo cambia devi costruirti al di fuori della protezione dei rapporti primari con tuo padre con tua madre con i tuoi fratelli è un momento difficilissimo invece le differenze? le differenze storiche sono che quando ero adolescente io pensavamo in grande anche noi ma non di scrivere un capolavoro di costruire un mondo diverso più giusto più equo più abitabile più sereno avevamo questo pensiero grande che ci risolveva molti problemi minori perché era una grande dazione di senso dieci anni dopo c'è l'adolescenza di Rocco Antonia e loro prendono gli ultimi fuochi di quella grande mutazione della fine degli anni sessanta inizio degli anni settanta però ancora per loro è politica tutto è politica il sesso le relazioni e oggi non più oggi sono tutti abbandonati a se stessi con questa falsa vicinanza della rete con questa costruzione di amicizie virtuali che poi valgono quello che valgono e con poca fiducia in una classe dirigente metaforicamente il padre sputtanata fin dagli anni novanta e non accenna a diminuire quindi si sentono molto soli io per quello che guardo sono molto fiduciosa perché hanno dato la sveglia a tutti a partire da Greta Thunberg hanno dato la sveglia sul piano della catastrofe ambientale che è un piano fondamentale sono stati loro i primi a dircelo svegliatevi che la casa brucia una ragazzina di 13 anni 15 anni Camila ti riconosci in questo ritratto sono molto d'accordo si diceva loro pensavano in grande insomma gli adolescenti di adesso si fermano al pensare perché la situazione è veramente drammatica quindi credo che forse non sono d'accordissimo sul discorso della rete e della la rete vista come perdizione perché nel mio caso per esempio in realtà la rete ha avuto in realtà una mi ha aiutato ad unirmi più che a dividermi però poi i casi sono poi la rete è uno strumento che chiaramente può essere usato in mille modi comunque la rete anche va bene la rete solo assolutamente sì genera una intensificarsi della solitudine oltre a questi micro crimini come quello che ha colpito la ragazza l'impiegata della Roma ah certo questa è un'altra storia di questa settimana a proposito non stai sicura mai cioè chiunque può potenzialmente mettere un video in cui tu stai colpito fidanzato e sputtanarti per tutto il mondo e questo è un altro tema che è da dire enorme ce n'è per essere ansiosi direi e ti chiedo perché tu adesso sei in turno con uno spettacolo che si intitola il saggio di fine anno che è già un titolo che mi mette ansia il saggio è proprio che ti dà l'idea del quindi un giorno tutto questo sarà tuo dice lì e tu ti ti devi caricare diciamo le ansie che ti abbiamo trasmesso noi io tra l'altro ho un bellissimo rapporto con l'ansia io devi sapere che nel mio tour c'è una stanza che viene particolarmente curata che è il bagno perché siccome io vivo molto bene lo spettacolo teatrale e l'ansia in generale tutto il team lo sa e quindi siccome sa che il bagno è la stanza che vivo di più diciamo proprio fisicamente ti vengono a cercare me la arredano con delle frasi di supporto quindi io mentre sono dentro che mi piego dai dolori leggo queste frasi di amore di solidarietà che mi aiutano molto però il saggio di fine anno è perché proprio è un po' il momento dove devi dimostrare a chi ti vuole bene io penso all'elementare quando avevamo il saggio di danza di musica dove dimostrare ai genitori quello che avevi imparato nel corso dell'anno scolastico e invece questo è diciamo un po' il tirare le somme di questi anni di lavoro ma soprattutto finalmente vedere le persone che in questi anni mi sono state accanto virtualmente sei già sold out vedo dappertutto 18-19 sei qua a Roma sono qua a Roma sì sì e poi andiamo avanti con un sacco di date fino al 10 di aprile che chiudiamo con Milano e sono molto contenta di finalmente incontrare le persone e dare dei visi a questi profili con cui parlo di solito ma che non riesco mai a io sono contento questa sera di averti fatto incontrare Lidia Ravena perché poi Lidia ti ricordo l'ultima volta ti ricordi quando venissi da noi avessi quel dialogo bellissimo con un'altra con Emma Ruzzon fu una cosa ma perché io ho istinto sono Zuccona ma c'ho istinto e di questa generazione della generazione dei giovanissimi mi fido molto e fai bene ti hai già dato della giovanissima io la ringrazierei tantissimo e manderei la sigla di promosse bocciati Agnese parlavamo già prima con Corrado Ausas del generale Vannacci ma il generale Vannacci ogni settimana ci svela un'altra parte di sé ha detto a 19 anni ha detto un giorno da pecora a 19 anni corteggiai una donna che poi mi sono reso conto essere un transessuale allora sono tornato indietro sul corteggiamento però all'inizio gli era piaciuto quindi chi disprezza compra tra poco ci rivelerà ancora perché dobbiamo parlare ancora diciamo così senti io quando l'ho sentito ho sentito la prima parte avevo corteggiato una donna transessuale dentro di me ho detto finalmente c'è un grande quei contrapassi meravigliosi ma perché sono mesi che ci gira intorno e poi si e finalmente si liberi in generale si liberi finalmente ha permettato la chiusura meravigliosa la film invece la chiusura della film è stata la film di serie Z perché dire non me ne ero accorto sono proprio quelle battute che si sentono tanto nei film di serie B quelli degli anni 80 che corteggi la donna transessuale e non te ne ero accorto quindi è insomma no troppo male male lo bocciamo per forza lo bocciamo quante volte l'ho già bocciato io invece sono per promuoverlo perché ormai è un po' lancio da commedia all'italiana magnifico la parodia di se stesso vada avanti vada avanti e sta diventando un caso politico perché una delle armi che usano i nemici di Salvini dentro la lega è dire noi non vogliamo mannacce nella lista perché non c'entra niente con la lega chi l'avrebbe immaginato allora invece Loda te tocca il codice Fazzolari tu sai che bello allora cosa è successo per chi non lo sapesse allora il potentissimo e melonissimo sottosegretario Fazzolari ha diramato delle direttive per le ospitate in tv di Fratelli d'Italia dicendo che bisogna privilegiare le donne faccio notare direbbe Lidia parla privilegia le donne ma è un uomo che lo fa quindi il potere è sempre l'uomo che decide donne giovani senza difetti fisici che è un'espressione boh e senza pancia quindi caro se lei io sono già sono già rovinato purtroppo io volevo andare a rappresentare lei sai era un po' il mio sogno diciamo rappresentare Fratelli d'Italia in tutte le televisione ma con la pancia me lo sono giocato lo do anche tu temo che non c'è come diceva Enzo Iannacci in quel momento bellissimo in quel Sanremo in cui è arrivato come se me lo dicevi prima cerchiamo uno tra l'1,60 l'1,60 e l'1,60 io posso dire solo una cosa che noia ma non solo la tv il cinema il teatro qualsiasi forma di rappresentazione tanti corpi diversi tante voci diverse tanti accenti diversi io ho di vedere lo stesso lo stesso modello umano che si ripete in sequenza ho l'angoscia e qua diventa qualcosa di più simile a una fabbrica che è uno spettacolo e uno spettacolo non deve mai diventare una fabbrica questo mi disse una volta un regista russo e quindi il capocantiere della fabbrica dove lo mandiamo? ah no io 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 non sono bravo a bocciare ho questo problema che anche quando facevo il giudice in tv ero troppo buono quindi ditelo voi ma a me non piace guarda mi prendo lo boccio io lo boccia Camilla lo boccia ti prendo questa autorità allora con codice fazzolari non potrebbe neanche andare in onda Giorgia Meloni cioè non è più una giovane donna per esempio e non rientra più anagraficamente e non rientra bene è alta un metro e venti è capito non esageriamo allora questa settimana è stato un grandissimo torno di tennis stasera c'è la semifinale Sineracra sospesa per pioggia quindi potete stare tranquillamente a guardare noi perché non stanno giocando ma nel turno preliminare Alcarazzo ha giocato contro Sverev e all'inizio della partita c'è stato un fatto a proposito di cambiamenti ambientali Lidia una cosa che non si era mai vista nella storia dello sport credo guardate le immagini l'invasione delle api che hanno fatto fermare la partita ed è diventato l'eroe degli Stati Uniti in pochi secondi perché ha aspirato lo sciame con lo specco volevo sapere mi è mai capitato qualcuno di voi di utilizzare l'aspirapolvere in modo così creativo Saverio ne è mai capitato no ho utilizzato l'aspirapolvere in maniera creativa sì ma non così ecco no allora la cosa vogliamo saperlo la cosa che mi sorprende era in un campo da tennis no in un campo da tennis bastava dare una racchetta di quelle ammazza zanzare e se il tennista era bravo le api ma non lo so il povero Alcarazzo è stato punto comunque quindi non era così facile Camilla cosa ne facciamo delle api le promuoviamo le facciamo comunque la finale delle battute è un fatto che sta in dire comunque c'è un impazzimento posso dire che forse gli Umbri sarebbero degli eroi negli Stati Uniti perché in Umbri è pieno di apicoltura perché io ho assistito almeno a sei sciamature solo nell'ultimo anno quindi forse l'Umbri è una terra di eroi che tolgono le api però questi sono degli aspirapolveri appositi per risparare le api quindi io direi promosso perché ha fatto tutto nel modo corretto magnifico invece Lidia ci lamentiamo della giustizia italiana però leggo che Roman Polaschi straordinario regista andrà a processo a 91 anni per un'accusa di stupro che risale a 50 anni fa allora senza entrare nel merito di quella storia di cui si è discusso da decenni ma che effetto ti fa leggere una cosa due settimane fa commentavamo che a Torino hanno chiuso gli atti di indagini per una vicenda del terrorismo relativa agli anni 70 al famoso sequestro gancio dove morì Maracagol e dopo 50 anni indagano Renato Curcio che già allora era il capo delle biere ci sono venuti 50 anni ecco qui ci vogliono dopo mezzo secolo si riapre questo processo che effetto ti fa questa giustizia che non finisce mai? Un effetto pessimo devo dire perché un uomo di quell'età è un uomo diverso io penso che ogni età della vita sia come un paese straniero passi dall'una all'altra cambi cambi insieme al tempo se non impari a camminare insieme al tempo è molto triste finisci ripiegato su te stesso quindi io non penso che Roman Polanski sia la stessa persona che era 50 anni fa come neanche un brigatista io ho scritto un romanzo su una brigatista che arriva ad avere 66 anni e quando ripensa alla sua giovinezza sa di avere aderito alla lotta armata non ha ucciso personalmente lei ma insomma era in quella compagine e siccome quando si diventa vecchi la compassione cresce 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 il senso di condivisione col dolore degli altri e quindi uccidere diventa molto più difficile perché facilmente empatizzi in quel momento e quindi non puoi fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te e quindi questa ex terrorista va in crisi e io penso che questo sia vero anche per gli ex terroristi che devono rispondere di un crimine di 50 anni quindi lo promuovi o lo bocci Roman Polanski? Io lo promuovo perché è un grande regista confesso lo promuoviamo come regista quella è la mia debolezza e noi grazie Rida e noi promuoviamo senza discussioni ma mi prendo la responsabilità di dirlo la nostra star dell'arte Jacopo Veneziani che oggi ci porta alla scoperta di un passaggio segreto a Venezia allustratevi gli occhi per il passaggio segreto di Jacopo Veneziani Eccoci mi avevate riconosciuto oggi siamo a Venezia in piazza San Marco alla scoperta di un luogo che nasce proprio qui si tratta del ridotto ovvero un posto in cui la gente si riduceva a giocare d'azzardo un casino insomma ma come nasce il gioco d'azzardo a Venezia? Ah qui c'è una bella curiosità che riguarda quelle due colonne simbolo della città le due colonne di piazza San Marco San Marco e Santodaro arrivarono a Venezia probabilmente come bottino di guerra ma rimasero per decenni distese in riva alla laguna perché troppo pesanti per essere rette sono in marmo e granito rosa la soluzione per i sarle la trovò nel 1172 un ingegnere bergamasco Nicolò Barattiero che riuscì nell'impresa tramite un geniale sistema di corde come ricompensa il doge gli permise di realizzare un suo desiderio aprire una bisca per il gioco dei dadi proprio tra le due colonne dando il via al primo casino all'aperto della Serenissima a partire dal 600 il gioco d'azzardo fu autorizzato anche in altri luoghi e il primo ridotto pubblico fu aperto dal nobile Marco Dandolo in questo palazzo palazzo Dandolo appunto che oggi è sede dell'hotel Monaco e Gran Canale entriamo all'hotel Monaco sono stati eseguiti vari restauri è stato sede dell'ambasciata francese salone da ballo sotto gli austriaci teatro e cinema ma noi dobbiamo immaginarcelo come casino la prima sala che si incontra è questa la sala della crozzola della stampella in veneziano perché i giocatori più anziani che salivano le scale con i loro bastoni arrivavano con il fiatone e non avendo la forza per proseguire oltre si fermavano qui per fare le loro puntate comunque comoda porta dalla sala della crozzola si arriva al vero e proprio ridotto in cui i giocatori erano obbligati a mantenere il silenzio e a presentarsi con la bauta cioè la tipica maschera veneziana per non farsi riconoscere tra i clienti più famosi c'era anche il vizioso Giacomo Casanova che nonostante la maschera risultava riconoscibile per via della sua altezza se dice fosse alto quasi due metri al ridotto però non si giocava solamente si poteva trascorrere del tempo anche con le cortigiane che da questa balaustra offrivano i loro servigui al miglior offerente calavano un cestino e chi lasciava la somma più alta poteva ritirarsi con loro nella cosiddetta alcova questa stanza che già all'epoca non aveva porte quindi succedeva tutto a vista scandalo curiosità nell'alcova saltavano tutti i freni inibitori anche perché da questa che era una fontana non sgorgava acqua ma vino usciva dalla bocca dell'asili il nostro casanova aveva cattiva fama non solo per le donne e le cortigiane ma soprattutto per i debiti di gioco che lasciava in giro e che lo costringevano a fuggire dai suoi debitori e quindi secondo voi di cosa aveva bisogno? bravi di un passaggio segreto il passaggio segreto di casanova conduce qui all'ingresso dell'hotel ma non fatevi trarre in inganno dalle apparenze adesso vediamo un elegante salottino ma questa una volta era una darsena poi interrata in cui casanova teneva ormeggiata la sua gondola per fughe e scappatelle con il tempo il ridotto che pensate fu il primo casino pubblico al mondo divenne centro di scandali e disastri finanziari attirando in città anche numerosi usurai per fortuna oggi è sede del meraviglioso hotel monaco e gran canal e a proposito di canal grande chissà se nelle notti di luna piena la gondola di casanova si aggira ancora alla ricerca di qualche bella veneziana il ragazzo eritreo è sfinito dalle torture e dalle umiliazioni ma è riuscito finalmente a coronare il suo sogno imbarcarsi su un barcone della speranza in partenza dalla Libia destinazione Europa sappiamo poco di lui giusto il cognome Tesfom è il soprannome che nella sua lingua significa lo struzzo per via del collo lungo che scatta verso il cielo fuggendo dalle sue spalle magre ecco sappiamo anche che fugge da una guerra e da una città maimine che è uno dei luoghi più disperati e miseri della terra sappiamo poco di lui però siamo in grado di conoscere i pensieri che gli passano per la testa proprio lì mentre sale su quel gommone e rivolge lo sguardo alle coste dell'Europa non ti allarmare fratello mio dimmi non sono forse tuo fratello perché non chiedi notizie di me è davvero così bello vivere da soli se dimentichi tuo fratello nel momento del bisogno dunque è a questo che pensano quando salgono su quelle barche alle persone che hanno lasciato cerco vostre notizie e mi sento soffocare non riesco a fare neanche chiamate perse chiedo aiuto la vita con i suoi problemi provvisori mi pesa troppo ma soprattutto alle persone che troveranno una volta sbarcati ti prego fratello prova a comprendermi chiedo a te perché sei mio fratello ti prego aiutami nessuno mi aiuta neanche mi consola si può essere provati dalla difficoltà ma dimenticarsi del proprio fratello non fa onore il tempo vola con i suoi rimpianti io io non ti odio ma è sempre meglio avere un fratello lo struzzo avverte l'ostilità del mondo d'altronde da quando è nato che la povertà e la violenza lo accompagnano ci è abituato ormai a farlo barcollare sono invece l'indifferenza e gli occhi di chi lo guarda come se fosse un usurpatore no non dirmi che hai scelto la solitudine se esisti è perché ci sei con le tue false promesse mentre io ti cerco sempre saresti stato così crudele saresti stato così crudele se fossimo stati figli dello stesso sangue questo viaggio non finisce mai ogni onda mette a rischio la carretta che precipita nel buio in preda alla febbre lo struzzo quasi non si accorge della nave di open arms che prende a bordo lui e gli altri spettri ora non ho nulla perché in questa vita nulla ho trovato se porto pazienza non significa che sono sazio perché chiunque avrà la sua ricompensa io e te fratello ne usciremo vittoriosi affidandoci a Dio ecco la nave dei salvatori scarica queste vite in bilico nel porto di Pozzallo lo struzzo è il primo a scendere ha 22 anni e pesa 30 chili lo porta nell'ospedale di Modica ha un polmone perforato è la tubercolosi non c'è niente da fare muore poche ore dopo e nel suo portafogli gli infermieri trovano due poesie scritte a mano da lui ripiegate in fogli ancora bagnati e sono le poesie e le frasi che ci ha letto Lodo l'altro giorno la Treccani ha deciso di inserirle in una sezione dedicata ai grandi poeti del Mediterraneo da Omero a Cavafis che entrerà a far parte delle antologie delle scuole superiori ogni giorno che passa gli errori dell'uomo sono sempre di più lontani dalla pace presi da Satana esseri umani che non provano pietà o un po' di pena perché rinnegano la pace e hanno scelto il male però gente mia miei fratelli una sola cosa posso dirvi nulla è irraggiungibile sia che sia tanto o niente tutto si può risolvere con la fede in Dio ciao ciao vittoria agli oppressi sono passati sei anni da quando Tesfom lo struzzo il poeta è morto ma le sue parole vivono ancora e per sempre in altre parole bentornati Lidia che farai domani come passi la domenica domani passo la domenica con la regista Emanuela Giordano a limare un copione tratto dal mio romanzo Il terzo tempo che quadra quasi tutto ma ne manca sempre un pezzettino mi santificherò la domenica lavorando e mi sembra una buona scelta lodo anche tu io invece ho un caro amico che fra due mesi si sposa e andiamo andiamo a farci una gita andiamo andiamo a portarlo a mangiare andiamo a portarlo a mangiare una specie di prefesto del Dio celibato esatto e tu invece Agnese domani sei al giornale o no? allora io domattina torno a Firenze e siccome non so mai che cosa leggere in treno mi comprerò il libro di Liglia Ravera che tu sia benedetta in questo video mi sembra l'inimo mi sembra l'inimo e tu Camilla invece che fai? io credo che da brava ansiosa starò in hotel a ripassare tutti i monologhi dello spettacolo perché lunedì sera si va in scena quindi devo fino all'ultimo sbagli lì sai non si sa mai invece a lei non chiedo cosa fa perché tanto le sue domeniche sono una tristezza e quindi le riempio allora innanzitutto come diceva anche Agnese legga il libro un giorno tutto questo sarà tuo di Didier Ravera assolutamente poi prenoti il biglietto per il saggio di fine anno lo spettacolo teatrale di Camion che però a Roma è già sold out non lo invitiamo grazie grazie ed è riuscito già a prendersi il biglietto gratis vabbè poi poi esca tolga le ciabatte metta le scarpe vada in una piazza a comprare questa uova le uova di cioccolato dell'Ail che è l'associazione italiana contro le uccemie linfome miloma nelle piazze italiane poi però torni a casa entro le ente 35 perché comincia in altre parole domenica e domani parleremo di guerra e di pace con Michele Santoro per adesso fatevi i sogni ciao